Grazie a tutti. 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 Non è che sono di buon umore Ti paragonate a quelli bescille Non è che ti paragoniamo Noi siamo in possesso Siamo in possesso di materiale Di materiale No non scabroso Siamo in possesso di queste prove Che danno testimonianza Del tuo imminente impegno Con la BTV terrestre Prove che custodiremo Gelosamente Giovanni ultimamente E' vero Adesso è a premium E' appena stato direttore di radio DJ Esattamente In precedenza è stato Commentatore di wrestling per Sky Ha fatto un po' di tutto Fa carriera Diciamo Fa decisamente carriera Allora Giovanni sei contento Di avere tutti questi ruoli Dovresti essere felice Che hai messo LinkedIn Per esempio Altri ruoli che preferirei Sono quelli di serial killer Si certo Di 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 gran mufti Che abbiamo visto essere un terribile Di chi scusa Gran mufti Gran mufti La mente La mente La mente dietro all'olocausto Eh certo Come no Ricordiamo Ricordiamo Quell'olocausto L'olocausto Lo si buonanotte L'olocausto Senza la L.O. L'olocausto Poteva essere combattuto Secondo alcuni Dando semplicemente Delle pistole Agli ebrei E sarebbe stato Evitato tutto Stando più che altro A un candidato presidenziale americano Che non è Donald Trump Stranamente Perché Donald Trump Sarebbe stato capace Donald Trump dirà Che se avessimo lasciato finire Il lavoro a Hitler Oggi ci sarebbe la pace Nel Medio Oriente Eh certo Dirà così Io sono sicuro Tu sei sicuro Che dirà una cosa di questo tipo Ti meraviglieresti? No ma Guarda Sì Onestamente Onestamente Non mi sa Ma se uno che ha una giornalista Gli ha detto Il tuo posto nella mia azienda È sotto la scrivania Dai Beh gli ha detto Gli ha detto anche Che Che perde sango Qualcosa del genere Non mi ricordo Che cavolo aveva detto Comunque no Comunque mi Devo 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 dissentire con te Giovanni Devo dissentire con te Sul fatto che Con Diciamo Con Quello Che Trump Avrebbe potuto dire Una cosa del genere Perché ci sarebbe stato lui Vi mando Vi mando Diciamo Il link Attraverso Attraverso Whatsapp Ci sarebbe stato lui E lui secondo me Avrebbe Avrebbe comunque Tenuto in piedi Tutto quanto Vi invito Anzi ve lo mando anche su Whatsapp Su Skype Così potete vedere Vedere questo link Meraviglioso Che è uscito un paio di giorni fa Su diversi quotidiani Non fate caso L'abbia preso nel giornale Però è un link Che si è diffuso Attraverso Vari giornali Io c'ho il firewall Che non me lo apre Questo sito Ok va bene Vabbè si trova anche Su altri quotidiani prestigiosi Come Cronacavera Per esempio Che l'ha diffuso Su Whatsapp Su Facebook Anzi scusatemi Vabbè Fabio ti apre solo libero? No 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 Quello è un altro Quello è un altro No no Guarda Libero mi scoppia direttamente Il computer Eh immagino Va bene Allora 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 Parliamo di Alien Osell Di questo Meraviglioso Meraviglioso Pay per view Che ci aspetta domenica A me è salito lo sconforto Veramente Anche a me onestamente Cioè ci sono certi match Che Poteva anche andare meglio Onestamente Però poteva anche andare meglio Poteva andare meglio Però dai A Raw sono stati Sono stati carini In che senso Sono stati carini Grazie a Giovanni Cioè A Raw è stata una puntata carina No nel senso È stata una puntata carina Ma hanno fatto Ha fatto un lavoro pessimo Di promozione del pay per view Altro che puntata carina Oggettivamente È stata una puntata migliore A me per esempio Vai Abbiamo perso Giovanni No a me non è spiaciuto No anche a me non è spiaciuto Cioè Intendiamoci È stata una puntata Migliore delle ultime 3-4 Oggettivamente Il problema è che è stata Una puntata che ha fatto Un lavoro secondo me Pessimo di promozione Del pay per view E dei due match principali Più che altro Del pay per view Ovvero L'Eleaner Cell Tra Taker e Leza Che è il main event E quello E il match per il titolo Da B2B Dove peraltro Uno dei due contender Non era neanche presente In puntata Perché è sospeso In storyline Più che altro Quindi Onestamente Non sono Non La mia aspettativa Per questo pay per view È praticamente nulla Onestamente Poi magari ci divertiamo anche Però Anche se non Scusa se ti fa Scusa se lo utilizzo Un attimo Per dieci secondi Ma non Insina contro Punto interrogativo Non hai messo Chi è Punto interrogativo Eh Come faccio Potrei Ma ci sono Cinquantamila Rester Dopo Non ci avevo pensato Il problema È che ormai È tardi È venerdì È venerdì Sì esatto Non è giusto Cominciamo da quel match Tra l'altro Non ci avevo pensato Cominciamo da quel match Più che altro Parlano dell'evento Del pay per view Anche perché È l'ultimo La domanda Più che l'avversario Vai 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 Giovanni La domanda Più che l'avversario È Sina Si porta il titolo In vacanza O lo lascia a casa Prima di È È una bella domanda Secondo me Ovviamente dipende Molto dall'avversario Naturalmente Ma secondo me Lo lascia lì Un paio di mesi E poi se lo ripiglia Eventualmente Quando torna Non che importi Cioè non che sia Il titolo più importante Però Non credo Se lo porti via Ecco Se devo vedere Un pronostico Dico Che chiunque sia Il suo avversario Si possa portare A casa il titolo La domanda Naturalmente Chi è questo avversario Allora Questa domanda Non so rispondere Io ho delle quote Di B-Win Di B-Win addirittura Sì Per quanto possono Essere attendibili Sì Quelle di Five Dimes Non credo ci siano Nemmeno Esatto Che danno Vai A Ambrose a tre Sì Tyler Breeze A nove A nove e due Quattro e mezzo Beh se Ambrose Entra in questo match Dubito vinca Onestamente Magari mi sbaglio Però Magari No magari Infatti Tyler Breeze A quattro e mezzo Breeze potrebbe starci Perché vista la storia Anche iniziato Sì Esatto E l'ha nominato Più totale Sì Beh infatti L'ha iniziata bene Infatti Brian Hitzlater A sei Sì Cesaro A otto Sì Carlito A dieci Sì Zayn A dieci Strowman A dodici Sì Valor A quattordici Joe A sedici Ziggler A venti Sì Corbin A trentatré Sendo A trentatré Rowan A cinquanta E Kane Non so perché A cinquanta Minchia Non ci avevo pensato A chi A Kane Di nuovo No A Corbin Eh Corbin Puoi sempre Mettere È il debutto Perfetto Corbin Io ve lo dico Corbin Campione degli Stati Uniti E vabbè No Più che altro Ha fatto Un gran lavoro Poverino Per migliorare Assolutamente Assolutamente Pensavo fosse Lo schifo Nell'Indian X Invece No no È stato un bel match È stato un bel match Rhyno comunque Non è scarso Oggettivamente No infatti Rhyno ancora Anzi Forse Negli ultimi Dieci anni Passati in compagnia Varie ed eventuali È forse Il periodo In cui più in forma Questo periodo Sì 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 Sono d'accordo Sono d'accordo Sono pienamente D'accordo Ma allarga anche a 15 Cioè dopo la fine Della ICW Mi sembra Il periodo Un po' più in forma Non esagererei Onestamente Però In TNA In TNA Ha comunque avuto Dei buoni periodi Oggettivamente Il primo mese Forse No no dai Ha avuto anche Dei buoni match Più che altro L'ultimi dieci anni Quando ha cominciato A inchiattirsi In TNA Eh vabbè Dai Gli capita Onestamente Esatto Perché la TNA Era due mesi Andavi bene Due o tre mesi Andavi bene E poi ti cominciavi A inchiattire Sì 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 Beh è stata un po' Una costante Quella Eh sì Era un po' tutti Era così Un po' tutti Era così Ed è ancora così Per alcuni Casi Onestamente E No niente Volevo No Come detto Come detto Più che altro Il Li dipenderà molto Dall'avversario Naturalmente Per valutare Valutare Se Sina Praticamente Praticamente Si porterà via La cintura In questo In questo periodo Di assenza Che lui avrà Dagli shot televisivi O se invece Sarà praticamente Come posso dire Sarà Avremo un nuovo campione La logica Vuole che avremo Vuole che avremo Che noi si abbia Praticamente un nuovo campione Però Sì Non lo so Non lo so onestamente Non so voi cosa Che ne pensate E' sempre Sina Sina in vacanza Con la cintura Volendo ci può andare Sì Perché tanto Vabbè io dico vacanza No più che altro Al direi del fatto che Sina Il fatto che comunque È un'assenza Di diciamo Di un paio di mesi Alla fin fine Non è un'assenza Così lunga Sostanzialmente Però 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 Dall'altra parte Diciamo Il rovescio della medaglia È questo La situazione dei face Con l'assenza di Di Sina E l'assenza di Randy Orton Di cui parleremo dopo Per quanto riguarda Il lato face Secondo me è semplicemente Drammatica In questo momento Per quanto riguarda La compagnia Perché i tuoi top face Sono Roman Reigns Brock Lesnar va via Quindi lo devi togliere di mezzo E Kane Di fatto E vabbè Dean Ambrose Però Dean Ambrose più che altro È stato anche trattato in un modo In questi mesi Che insomma Onestamente lascia un po' desiderare Più che altro perché Non hanno piani Non avevano piani Evidentemente Spero per lui che abbiano dei piani Mi viene però Una cosa Che devo Che devo farvi notare Sì prego Devi comunque dare un nome Se tu vuoi far battere Sina O lo fai battere da una Ambrose secondo me Comunque ha la credibilità A prescindere per battere Sina Sì Agli occhi della gente Sì In generale No Però Agli occhi del fan Ok Ambrose Alla tutto Sina Bene Ok però Ti fermo un attimo Con tutto il lavoro Che hai fatto adesso Con Come si chiama Con la open challenge Dei titoli degli Stati Uniti Io sono Rimango dell'idea Che a questo punto Deba essere Un heel E debba essere Qualcuno di NXT Più che altro O meglio Ho anche un face Però deve essere Un nome grosso Da NXT Meglio un heel Però Meglio un heel Il problema è adesso C'è Breezy in arrivo Sì Ma Breezy Può essere uno Che arriva Battesina Beh Può essere Ma come detto Come detto Come detto Come detto Come detto Come detto Da Giovanni Può anche sempre Usare lui Il problema è quello La gente Corby La gente Lo vede arrivare Dice ok Questo è uno Questo chi cazzo è Prima di tutto Questo chi cazzo è Però lo vedono Grande e grosso Che questo Sina lo può battere La credibilità C'è la La gente Che non lo conosce Ma questo Dopo che Oens Ha provato due volte Tra di via Al titolo Stati Uniti Non ce l'ha fatta Esatto Arriva questo E lo batte Sì In 20 secondi Magari Visto che Mesh più lunghi In 20 secondi Ha qualche problema Tra l'altro Agli occhi di Vince Un Corby vale 20 volte Oens Scusami Scusami Dicevo Agli occhi di Vince Un Corby vale 20 volte Oens Naturalmente Ma anche Breeze Naturalmente Ma Breeze Non lo so Onestamente Breeze Non lo so Non Breeze Vale più di Oens Ah ok Da quel punto di vista Sicuro Senza dubbio Ricollegi va con l'idea Dice Ascolta Domenica John va via Ti presento quello che Risponderà alla super challenge E lo batterà E va con Tyler Breeze Visti Dice Non vedo nessuno Davanti a me Non vedo nessuno Sei sicuro che sei venuto con qualcuno Oppure Lo cerca sotto le scarpe Esatto Io vi butto lì invece una provocazione Poi guarda Un metro sotto Dice Ah quello lì Quel microbo lì Che c'è per terra No Fabio lo vede Perché c'è il selfie stick Tutto qui Esatto Ovvio C'è lo selfie stick nell'aria A mo' di guida giapponese Pare tra l'altro Che il selfie stick Sarà un nuovo Diciamo Un Un nuovo articolo Di merchandising Su quale punteranno Particolarmente Quello del selfie stick Personalizzato E sobrio Soprattutto Da parte di Chi non comprerebbe Quel selfie stick Cioè Sobrio Soprattutto No Sì So che So che Cristian Vieri Ne ha ordinati già 15 Conoscendolo Grande Bobo Io volevo buttarvi lì Un nome Che in realtà Non so come inquadrare Perché non ho capito Cosa hanno intenzione di fare Ok Harper Harper È lì che fluttua Sì esatto Esattamente Secondo me Si sta Stato bene E Harper Ma non La questione Cioè non è la credibilità Per batterlo La questione più che altro Di Harper È che È stato tolto Dal Momentaneamente Che poi non l'hanno tolto La White Famine Semplicemente Semplicemente Ha avuto un'emergenza familiare Pare Quindi Non era presente A Raw lunedì Ed è stato riciclato Il buon Henry Crowan Che Ha fatto il suo Grande ritorno Nella compagnia Io il nome Ce l'avrei Anche appena È abile Arruolato Appena Disponibile Sì sarebbe Di grazie Alex Riley Eh sì Avrei detto Fandango Guarda No Fandango Credo che si stia Ancora riprendendo No scusami Non è Fandango È Adam Rose Sai come viene giù l'arena Con Alex Eh sì Esatto Ma a proposito Quello stronzo Del party pooper Adam Rose Sì Spero mai Però No ha avuto Sai che ha avuto Un'infortunio Durante uno show In Messico Praticamente Si è preso una papagna Sulla testa Ed è rimasto a terra Praticamente Ah me l'ero perso Preso un big boot Credo da Fandango Tra l'altro Ed è rimasto a terra Hanno dovuto interrompere il match Poi fortunatamente Niente di grave Però Almeno per il momento Era intontito Abbastanza E KO Quindi non potesse Vai Quello che mi chiedo Quello che mi chiedo Se vuoi mettere Sina in un open challenge Del genere Davvero poi Come dire Spendi per questo nome Misterioso Un nome piccolino Eh Io dico Almeno un Embrose Almeno un Ziegler Ce lo metterei Eviterei L'effetto Di dire Ok Non annunciamo L'avversario Facciamo l'open challenge E poi arriva L'ultimo dei fessi No più che altro Non tanto L'ultimo dei fessi In senso negativo Semplicemente Sappiamo Che sono pochi Pochissimi Quelli che Apparendo Dallo stage Ti possono dare l'idea Dice Ah vabbè Dai Forse sì Con Sina Se la gioca In questo periodo Come dire Particolare Dove Sina può perdere Sì 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 No ma in realtà È tutto È diciamo È tutto Tutta questa manfrina Praticamente Della Open challenge È tutto un modo Per portare A compimento In pay per view Questa faida Che sta andando avanti Da numerosi mesi Tra John Cena E uno dei suoi acerrimi Nemici Di cui possiamo sentire La film song In questo momento Perché questa Open challenge Deve culminare In Yves Slater Che vince il titolo Nel Stato Uniti Perché non so Se state seguendo È bellissima La storia La cui film Non viene mai suonata Praticamente Durante Durante Le open challenge È lui che ci rimane Costantemente male Deve culminare In qualcosa Questo Poi volendo Potremmo far benissimo Sino Slater Conoscendole Slater è basso Nelle quote Perché comunque È sempre in mezzo È sempre È sempre in mezzo Non credo Abbiano la minima Intenzione Di dare Tutti i titoli A Yves Slater Soprattutto dopo L'ho arrivato a John Cena Però È sempre in mezzo Con questa storina Che è chiaramente Una storina in comedi Però è sempre È sempre lì Che dice Stasera è la mia serata Entrerò Entrerò Nella open challenge E cose di questo tipo Nella open challenge E perde in due secondi E poi arriva Un vero avversario Certo Puoi far benissimo Una cosa di questo tipo Slater Slater Assolutamente Vai Slater mercoledì Martedì Durante Durante Sports Center Sì L'aveva chiesto Chiedi a Sina Quando Quando mi darà La mia shot Al titolo dei Stati Uniti It's Slater's Music Hashtag It's Slater's Music Sì 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 Pienamente d'accordo No Più che altro Perché potrebbe anche Essere qualcuno Che possa infortunare Sina Che possa vendere L'assenza di Sina E in quel caso Il nome ce l'abbiamo tutti Che è? Sentiamo Ovviamente Braun Strowman Ovviamente Braun Strowman Ovviamente Sì Va bene Vedremo Se sarà Beh Non so se avete letto Le pubblicità O comunque L'elenco dei match Annunciato per Il Madison Square Garden Al momento Permettendo che Che è lo show Praticamente classico Di Natale Fine anno Praticamente Il match Di ritorno Praticamente Di Sina In quel periodo Dovrebbe essere Sina contro Seamus Quindi vedremo Se sarà effettivamente Lui O se succederà qualcosa Con Seamus Dopo l'Open Challenge O addirittura durante Vedremo Grandissimi Incassa Per il titolo degli Stati Uniti No Non credo che incassi Non credo sia così Imbecille Da incassare Per gli Stati Uniti Cos'è che hanno annunciato Hanno annunciato Sina Aiuto Vado a riprendere I match Più che altro Perché hanno annunciato Due match Per il Madison Square Garden Hanno annunciato Quello Sina Cambiare questi match Naturalmente Da qui Da qui A dicembre Però Al momento Hanno annunciato Queste due Queste due Queste due match Sina 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 E un altro Che adesso non mi ricordo Che adesso vado Vado a cercare Più che altro No Più che altro Effettivamente Questa è la cosa più Una delle cose forse più interessanti Dell'intero Dell'intero P-per-view Più che altro Perché non sai veramente Cosa possa capitare Perché onestamente Per il resto Del Per il resto Del pay-per-view Bene o male A parte Forse No Ci sono anche match Incerti Onestamente Però La sensazione generale Con tutto il rispetto È quello di un gigantesco Chi se ne frega Dei verdetti Perché comunque Faide non pensano Cioè Una faida Una faida Finirà di sicuro Che è quella tra Undertaker e Lesnar Perché ce l'hanno detto E lì vediamo Che succede Lì penso A meno che non siano Completamente impazziti Vince Lesnar Secondo me No Non ha senso Che vinca Taker Dai Non ci credo Cioè L'unica cosa Che potrebbe giustificare Una sconfitta di Lesnar È un intervento Di quello che poi sarà Probabilmente sull'avversario Restalmenia addirittura Chiunque esso sia Ma non penso Che ci sarà Cioè Oddio Magari i ranini Nell'Elinasel Ci saranno anche Figurati Però Il che Ripetiamo Manda a puttà Nell'intero proposito Nell'Elinasel Cioè Lasciare questi due Nella gabbia Comunque lasciamo stare Di base dovrebbe vincere Lesnar E a quel punto la domanda sarà Che cosa facciamo fare a Taker Dopo Dopo Elinasel Perché comunque Taker No infatti C'è tutto il tempo Di questo mondo Altri? Sì Sì Benissimo Bello Mi è piaciuto Bella Sì Qualunque Sia Riguardo a cosa Non si sa Però si Sai che mi è fatto Venire in mente Un nome Sì Vai E se fosse del Rio? Può darsi Ma bisogna vedere Se hanno già Se hanno già Un accordo Ma non mi pare Onestamente Che abbiano già Un accordo Una bella sorpresa Dai Quello sì Quello sicuramente Senza 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 dubbio Però Non lo so Se hanno già Un accordo Dicendo Di certo si stanno parlando Di certo si stanno Si stanno parlando Questo è Può essere Questo è un po' come sicuro Quindi vedremo Vedremo se Sarà lui Effettivamente L'avversario Di Sina Praticamente In questa In questo In questo match Chi è che Ah ok Sì Stavate parlando Di NXT Vai 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 No no Cioè Quella cosa Non possiamo ancora Se Se non possiamo ancora Parlare di Nonda Che è una cosa Andare ancora in Nonda Però Penso che il motivo Sia quello Eh aspetta un attimo Che leggo bene Tutta la Tutta la No vabbè Possiamo parlare Di Storm Perché comunque Già andati in onda Eh sì infatti no No sì Del fatto che È andato in onda Però Di quello che Succede Nei taping Ah dei taping No Dei taping No Vabbè Possiamo anche dirlo Volendo Perché comunque Non è importante Sì no 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 Se volete ve lo dico io Storm ha annunciato Che i match Che disputerà In NXT Varranno Nel punteggio Esatto Quindi a tre punti Nella classifica Esatto Nella classifica Nelle War title series Esattamente Esattamente Me la son persa Questa settimana La puntata di Impact Non Eh Chissà cos'è È perso Ma è perso anche il Mane event Credo niente Però Anche il mie event Di Bone for Glory No quello Purtroppo l'ho visto Sfortunatamente L'ho visto Anticipare una cosa Che tanto non è importante No infatti Storm non hate Non è nella processione Di taping Esatto vai L'impressione L'impressione Che A prescindere Le mille congetture Che Probabilmente Visto comunque La forma Non è celsissima Per usare Un termine Beh magari non è quello Eh Non sappiamo se è quello Qualche chiletto Può essere Ma non è detto Che sia quello Magari Semplicemente Semplicemente Avevano altre cose Da spingere Magari in questo Sì 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 Anche però Secondo me magari Qualche C'è una pazza Che fa paura Guardato come pochi Non è mai stato Magrissimo No però Come l'ho visto Era proprio Allora Intanto ho trovato Finalmente l'altro match Della carne Mezzo sulle carne L'altro match Dean Ambrose Contro Kevin Owens Per il titolo intercontinentale Intanto fra 5 minuti Vi raggiungo Ok No dicevo Dean Ambrose Contro Kevin Owens L'altro match Per il titolo intercontinentale Almeno su Square Garden Quindi per quanto guarda La card Del 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 26 dicembre Eccola qui Per chi è Per chi magari È a New York Potete Potete tranquillamente Andare a vedere Questo Questo evento No vabbè Tornando a Taker Lesnar Direi che siamo Tutti d'accordo Penso Vinca Lesnar A meno che Non ci sia Non ci sia Ripeto Qualcosa di drastico Che succede Nel main event Per motivare Però il prossimo Messo di Brock Lesnar È l'unica spiegazione Che posso Che posso trovare Onestamente Vai È ancora Troppo presto Comunque Lesnar torna Alla Rumble Alla Rumble Giù di lì Comunque Fino a 2016 Non dovremmo vederlo Secondo me Puoi farlo Quale segmento Che dici Puoi farlo Alla Rumble Benissimo Gli dai un match Anche Abbastanza cazzo Tanto Non è un problema E poi Lo fai attaccare Da chi sarà L'avversario Ma onestamente Mi fare un po' presto Adesso Sinceramente Però il finale Controverso Dite che Lesnar L'hai già fatto Sì 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 Sono d'accordo Ok Questo pienamente D'accordo Più che altro Poi Puoi anche farlo Però poi devi uscirne Comunque bene Cioè devi avere Già delle idee Naturalmente Sia per Taker Che per ProClesner Ovviamente A meno che Non vogliono Tornarsi in un secondo Tempo Su questa Su questa faccenda Però La vedo La vedo Come posso dire Abbastanza Improbabile Almeno così Su due piedi Comunque Può anche capitare Vai No dicevo Non hai fretta In nessuno dei due casi Insomma Non sai Non sai tante cose Non sai se avrai The Rock Non sai se avrai Ronda Rousey Non sai tante cose Insomma Parlando di Ronda Rousey Attenzione Perché Domenica Per il preview Los Angeles Lei è lì Qui c'è Lei è nella zona Quindi potrebbe anche Fare un'apparizione Purtroppo Purtroppo Non batte Rassina No Quello non credo Anche se sarebbe Sarebbe un gran momento Onestamente Ronda Rousey Ma purtroppo Non sarà così No Per ovvi motivi Parlando di Brock Lesnar Vi confermiamo Che al momento Pare ci siano piani Per un DVD E Blu-ray Di Brock Lesnar In uscita Il prossimo anno Per quanto riguarda La David Aby Stando a Wrestling DVD Network Che è comunque Uno dei siti Più importanti Praticamente Per quanto riguarda Le notizie Sugli on video Della David Aby E dovrebbe contenere Match La classica compilation Di match E di E di momenti E dovrebbe contenere Anche però Un nuovo documentario Sulla vita di Lesnar E sulla sua carriera Che uscirebbe Per la prima volta Dopo Il Comes the Pain Che è uscito Nel 2003 Se non ricordo male Se non ricordo male Perché lui Finalmente Finalmente 2004 mi parlo No forse addirittura 2003 Sai perché 2004 è l'anno In cui siamo andati E finalmente Lesnar ci dirà Quello che non ci ha detto Del podcast di Austin Ovvero come si Come si imballa Il fieno Sostanzialmente Perché Questo era Il tipo di argomento Che ha trattato Con Austin Però lì Non c'era tempo Di parlare anche Di questo No come ti è parso Il podcast di Di Austin Pensavo meglio Devo dire Sì anch'io Onestamente Però Sai cosa Più che altro Io sono rimasto Particolarmente colpito Cioè In verità non colpito Perché comunque Anche in altre interviste Aveva Avuto questo Atteggiamento Lesnar è comunque Molto onesto In quello che dice Cioè Non è Non è un politico Lesnar Non è l'idea E da Tra l'altro Anche L'idea E l'ha detto E l'ha detto Apertamente Tra l'altro Durante il podcast Con Austin Che questo è un lavoro Per lui Cioè lui veramente Entra alle 9 Esce alle 5 Per usare un paragone Con l'ufficio I suoi match Che poi sono pochi Obiettivamente Perché comunque Ha un tipo Ha quel tipo di Contratto Con la David Abisson I match Le sue apparizioni Sono veramente Una giornata in ufficio Per lui Arriva tipo All'arena Un due Tre ore prima Quello che adesso Non so quanto tempo Di prima dubito Che comunque Deba presentarsi A mezzogiorno L'una Il pomeriggio Come tutti gli altri Va via Ha finito lo show Addirittura a volte Durante Come è capitato E finisce lì Lo fa Per i soldi Almeno Onesto Cioè comunque Lo dice apertamente Al contrario magari Di altri Che dicono No sono qua Perché amo il business E altre minchiate E poi Fanno più o meno La stessa cosa Che fa Brock Lesnar Probabilmente Però è anche Se troppo semplice Da questo punto di vista Nel senso che C'è un podcast inconsistente Da Page Te lo aspetti Da Lesnar Ti aspetti Quel guizzo in più Quel qualcosa in più Sì è vero È vero Però Non Cioè Non Non puoi fingere Cioè Volendo puoi fingere Naturalmente Però Se Per esempio Lui della storia di Della storia di Austin Che abbandona nel 2002 Perché non vuole fargli job Non gliene frega niente Perché capisce il suo punto di vista Non è che puoi andare da molte parti Onestamente A livello di discussione Ma parlaci Parlasci per esempio Della rivalità con Angle Ma secondo me Non gliene fare un cazzo Per quello che Non ne hanno Non ne hanno parlato Cioè hanno preferito Hanno preferito parlare Per un quarto d'ora 20 minuti Di caccia Di 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 carne E di birra Anzi Togliamo di probabilmente Anche di birra Perché comunque Si sono Sono scambiati I gusti relativamente Alle Alle birre preferite E si sono andati Tra l'appuntamento Per una battuta di caccia Che io spero Verrà documentata Alla WWE Network Perché l'idea L'idea di Austin E Lesnar Che vanno a caccia Secondo me E materiale Per vendere abbonamenti Al Network Io mi abbonerei Al Network Di due volte Solo per vedere Un documentario Su Austin E Lesnar Che vanno a caccia Che bella roba Bellissimo Vabbè Tu vuoi vedere Tu vuoi vedere Un DVD Sui Demolition Magari Preferisci Anzi Togliamo il magari Sicuramente preferiresti Un DVD Sui Demolition Giovanni Ce l'ho Era una vecchia VHS Lo fece anche sul Network No non lo fece sul Network Su 24-7 probabilmente Su 24-7 Molto bello Sì sì No tornando in DVD Per un attimo Vediamo un attimo Le uscite del 2016 Poi torniamo a bomba Su Elina Cell Allora A gennaio come sempre La classica compilation Dei migliori match In pay per view del 2015 Che Credo sarà sufficientemente Corta O sufficientemente Esilarante A livello di match A febbraio Il meglio Che comprendano anche i match In NXT A febbraio Il meglio Di Royce Smackdown 2015 Altra compilation Esilarante Specialmente Specialmente Per quanto riguarda Smackdown Nel 2015 No io mi chiedo Cioè Come nel 2015 Come fai a far uscire Un DVD Di Smackdown Con un'annata del genere Non è successo Non lo so Poi a marzo Il meglio di NXT Questo dovrebbe Credo sarà Una compilation Che comprenderà Il meglio di NXT Nella sua totalità Cioè da quando è partito Nel 2012 Probabilmente A oggi Ad aprile Documentare sui Dudley Boys A maggio Il meglio del titolo Negli Stati Uniti O il DVD Su Shane McMahon Si sta decidendo A giugno Il documentario Su Eric Bischoff A luglio Il documentario Su Scott Hall Ad agosto Non si sa A settembre WWE Hardcore Cioè Una compilation Dedicata appunto Ai migliori match Hardcore Della WWE Almeno questo Non c'è un titolo Ovviamente Però dovrebbe essere quello Ottobre Non si sa ancora A novembre Il terzo capitolo Dei DVD OMG Questa volta Dedicato ai 50 momenti Più pazzi Per quanto riguarda La ECW E qui c'è il materiale Onestamente Su cui fare un DVD Di questo tipo A dicembre E questo dovrebbe essere Abbastanza interessante Dopo quello che hanno fatto Per quanto riguarda Restelmania La vera storia Della Royal Rumble Questo dovrebbe essere Abbastanza interessante Se lo fanno Sullo stile di The True Story of Restelmania Che fu Effettivamente Un gran DVD Se lo potete vedere Se avete il network Andatelo a cercare Perché comunque Molto Molto ben fatto Ma torniamo a Elina Cell Torniamo a Elina Cell Innanzitutto Facciamo intanto Le previsioni Per quanto riguarda Il TW Game Sui match Di cui abbiamo già parlato Vi dico Una cosa al volo Prego Perché c'ho La WB Sullo sfondo Sì Davide Minetor Se ti chiami Se ti chiamano Il nome Peyton Royce Capisci già Che sei una Jobber Per E' un nome Proprio così Beh scusami Permettimi Tu prendi uno Lo chiami Dean Ambrose Tutto sommato Non gli dai Grande Non gli dai Due Non gli dai Grande Possibilità Di base Non è detto Però Dean Ambrose Già ti dice Questo è già Un po' Putazzolo Ma scomma Peyton Royce Cioè Che cazzo Il nome Di un Anonimo E vabbè Questo hanno Fabio Questo hanno Sfortunatamente Per loro A livello Di nomi Cioè C'è ancora Generatore Dei nomi No c'è ancora Il nome Credo Ecco qua Davide Davide Di Memento Rookie Name Generator Per esempio Cerchiamo Il nome Per Giovanni Pantalone Quando andrà Quando andrà Al performance Center Ecco qua George Miller Potrebbe essere lui Il nome Anonimissimo Sì esatto Fabio invece Potrebbe essere Jacob Ironstegg Che è già meglio Io potrei fare John Trousers A questo punto A sto punto Tanto vale Andrea potrebbe essere Trent Stewart Mentre a me Vai Come il mio collega John Hosea A cui hanno dedicato Una rena Franco Smettila E a me invece Vediamo che nome Viene affidato Jackson Anderson Eccoci qua Jackson Anderson È il nome effettivamente Da Da Jobber Davide E se diventassi Almeno The Eliminator Eliminator Non credo Sai Come uno dei Bambini Vada è uscito È uscito un altro nome Che può essere Può essere adatto a te Caro Giovanni Slab Bottoms Lo vuoi? Vuoi questo nome? Meat Stalker Vuoi questo? Vabbè andiamo avanti Jamie Clemmons Basta Pablo Blur Ma tipo Alexander Piccin Non è uscito Maddy Steffet Damien King Ecco Damien King Può essere già più interessante Jimpy Butters Soprattutto Butters Per Diciamo Che dite andiamo avanti Mi sarei un po' Rotto No vedi vedi che è uscito Il tuo Johnny Dressler Eh più o meno Già mi piace Più o meno Più o meno Siamo già Natty Black Basta Tito Sage O Tito Sage Che dir si voglia Basta A mia figlia E ne sto Ne sono veramente Brennan McBuilt Buddy Vabbè Andiamo avanti Che è meglio No diamo i minutaggi Per i match Per quanto riguarda Quelli di cui abbiamo Già parlato Taker Lesnar Dai 20 ai 25 Sì anche io Direi 20-25 Sì Mi metto le domande Io penso 15-20 Mi metto le domande 20-25 20-25 Sì Magari passa i 20 Ma non di molto Intendiamoci Magari passa i 20 Ma non di moltissimo Cioè non penso che Non credo che sarà 23-24 Onestamente Scemo si incasterà La valigetta No No Perché per il titolo Non è quello che chiude No Ok Cioè Quello è Indifferente Secondo me No Neanche secondo me Intendiamoci Sina La Open Challenge Secondo me Andiamo dai 15-20 No Sai che secondo me Andiamo dai 10-15 Però andiamo sui 14-16 Però Attenzione 14-16 Lì ci arrivano Ok Vediamo E chi vince Quello è il problema Io non lo so ancora Io metto il punto di domanda No No io deciderò domani No cos'è domenica Ok io non ho ancora deciso Domani per noi che stiamo registrando Invece domenica Faccio tempo a cambiare Tanto abbiamo tempo fino a domenica alle 8 Esatto Passiamo agli altri match Eh c'è Kane Rawlings Che è difficile da pronosticare Secondo me non è per niente difficile da pronosticare sai Allora Perché Perché vince Che è in presqualifica Esatto Io ho messo che è in presqualifica Allora Per me è chiaro C'è un Prevedo il non finale Sì Perché 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 La stipulazione Presuppone un non finale Per far andare avanti sta cosa Più che altro Esatto Il non finale Potrebbe benissimo essere un no contest Sì Anche No 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 però Attenzione Non può essere un no contest O meglio Non è che non può essere un no contest Può essere un no contest Però com'è la stipulazione Ve la ricordate? Che se Kane perde No Se Kane non vince Non è se Kane perde Se Kane non vince Ma guarda che potrebbe benissimo essere Il Corpore Kane viene licenziato Non è improbabile Il Corpore Kane Come l'hanno sospeso Vero È vero È vero Però Come posso dire Non mi viene Non mi viene Non mi viene una parola Mi dà l'idea Che questa stipulazione Sia fatta apposta Per tirare avanti la rivalità Fino a Survivor Series Purtroppo Anche a me Guarda Io ti dirò Io sono sicuro Della squalifica Anche secondo me Vince Kane Vince Kane Ma non vince il titolo Quello intendo Io non so se vince Kane O vince Rollins Per squalifica Non so chi dei due Si fa squalificare Ha più senso Che vinca Kane Per squalifica Però Che Kane non vinca il titolo E Cioè scontato Si Se Kane vince Vince Purtroppo Anche no Si Se Kane vince Vince per squalifica Cantauto Queste boiate qui Viceversa Rollins potrebbe anche schienarlo Ovviamente sporco Ma potrebbe Il problema Che in questo modo Devi togliere di mezzo Corporate Kane E Non Credo Che Cioè Onestamente Non mi dà L'idea Di essere un personaggio Corporate Kane A meno per il momento Che vogliono eliminare A livello di storyline Oh Non lo so Io ripeto Secondo me La squalifica è sicura Non ho capito Cioè Sono indeciso Chi dei due Possa vincere per la squalifica Kane Per la stipulazione Sì Ma Anche Che anche Ah no però è vero Perché non può perdere Eh esatto Torniamo al pronostico Che ho fatto all'inizio Che è ancora questo Cioè Rimango dell'idea Io rimango dell'idea Che se La stipulazione Sia messa apposta Per garantire Comunque una vittoria Di Kane Ma non la vittoria Del titolo Perché non penso Che vogliono togliere Di mezzo Corporate Kane Poi magari Sono pronto A rimangiarmi tutto Se Kane Per essere messo Pulito Il problema Più che altro È Un altro Anche Ho visto Una cosa meravigliosa Che manderemo domenica Durante i pallonari Dicevo La questione è questa E torniamo al discorso Che abbiamo Accennato prima La situazione Dei face È semplicemente Drammatica In questo momento Perché Orton È infortunato E vogliamo parlare Anche poveraccio Del modo in cui Si è infortunato Sto povero Cristo Vabbè ma c'è un grande Face Che emergerà Vittorioso Ailina Sì Quale sarebbe Questo Questo top face Di grazia C'è Reince Ovvio È bello Reince vince Sicuro Scusami Reince vince Sicuro Reince vince Sicuro Diciamo Eh scusami Allora Sono chiusi Nella gabbia Quindi teoricamente Nessuno può aiutare Wyatt Quindi il nostro Grande pupillo Nonché pupillo Di Vince È protettissimo Non protetto Non poteva fare nulla Quale miglior modo Per dare la vittoria A Reince No io se vuoi Pensavo Wyatt C'ha la forza brutta Occhio che Secondo me Strowman Spacca tutto E entra No E quantomeno Smonto una porta Noi abbiamo Abbiamo il nuovo Top face Eventualmente da lanciare Che uscirà Tale Da Elina Selle Possiamo rimandare La theme Eccola qui Come sempre Lanciare lui E quale modo Per essere lanciato La top face Di battere John Cena Nella open challenge Ma non può Spaccare Strowman Non può spaccare niente Perché c'è un incontro Non c'entra Strowman Questa è la film Di Baron Corbin Lo so Dicevo per la risposta No si Spaccare per modo di dire Secondo me Un modo per entrare Lo trovo Nella linea Selle dici Ma quale Quello di Roman Reigns Però non quello Di Brock Lesnar Sì no Spero non entri In Taker Lesnar Ah beh infatti Sì Non mi credete Quando vi dico Che Corbin È il tuo It's gotta be Strowman It's gotta be Strowman Ok Scusate Posso far notare Che Allora Hanno fatto debutare Breeze Che è praticamente Uno Ziggler 2 Sì Vogliamo far debutare Anche Reigns 2 Che Baron Corbin Non so Sono uguali Volendo Volendo Effettivamente Ci sarebbe Allora Basta Allora Basta con questo Razzismo Ma quale Razzismo Con questo Razzismo Nei confronti Dei Wrestler Che Dei Dei Vrestler Di 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 alta statura Nella WB c'è posto per tutti Ok Non solo per i Vrestler quelli che fanno 37 Moonsault Rovesciati Ci manca la persona Che è fissata Con queste cose Che non è presente Come mai non è presente Tra l'altro La persona che Ma che ne so La 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 Eh Cosa Non ho capito niente Non ho capito nulla Di quello che hai detto Andavo girando la ruota Ok Facciamo le 6 e mezza Però non lo vedo da nessuna parte Non vorrei che si fosse abbioccato Sì Va bene No Ho detto che alle 7 e mezza Dove andare via Ah Va bene Sì Ricordo di che facevo la same Sì 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 Ah Come 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 si dice Come si dice Come si dice Come si dice E comunque è una vergogna Perché voi Voi appassionati di queste federazioni minorissime Che vanno a vedere 15 persone Sì Con questi qua che Con uno sputo vengono spostati Sì Non apprezzate i veri lottatori Sì Certo Ok Vogliamo dire altre amenità Possiamo proseguire con Una discussione Ok Bravi bravi Cosa bravi cosa Tanto il vostro idolo non torna Se ne sta in UFC Chi è il nostro idolo Ma sarà il tuo idolo Che schifo Smettila Se ne sta in UFC E si prenderà 4 cartelle sul naso Come merito Che schifo Ringraziamo il Godzilla Fabio De Nardi Per questo sfogo L'angolo 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 delle Godzilla Eccolo qui Dedicato Dedicato a Fabio De Nardi Che se ne prenda con CM Punk Ancora una volta Senza motivo peraltro E se fosse lui In effetti Ma chi Ma CM Punk Magari Penso che grande ritorno Se non fosse che si è Disfatto una spalla In allenamento Potrei anche E che E che tecnicamente Sotto contratto Con un'altra compagnia Potrei anche darti ragione Vabbè anche Storm E' sotto contratto No Storm non è sotto contratto Con nessuno A parte la WWE Avrà un attacco di cagotto Ma quello è un altro discorso Chi scusa Non ho capito E che domenica sera Avrà un attacco di cagotto Chi Ma chi scusa Punk Sì Perché Perché così Perché glielo auguro Ma perché Ma poi Aspetti là Tra l'altro Questo odio Immotivato Assolutamente Ha ragione Giovanni Ci sono due precedenti Nell'ultimo mese Di che Di gente che ha lottato In due federazioni Essendo sotto contratto Con tutte e due Sì Uno è Storm E l'altro E l'altro è Hernandez Hernandez No Hernandez No Non è nell'ultimo mese Hernandez è prima Molto prima Sì va bene Gli ultimi due Caso strano Una delle due federazioni È sempre la TNA Più che ha lottato In due federazioni È apparso in televisione Per due televisioni Perché se andiamo Se andiamo per esempio A contare Se andiamo per esempio A contare Le varie indie Mi sa che Lottatori che lottano In 4 o 5 federazioni Ne troviamo Una cinquantina Incluso indie Che hanno fatto show In Italia Ah scusami è vero La TNA conta come indie L'ha detto Michael Clone Sì Beh oddio Vogliamo dargli torto In questo periodo Con tutto il rispetto Per la TNA Naturalmente Però Oggettivamente Mi sa che bisogna Anche dagli ragazzi La TNA sta cercando Di ispirarsi Sì Ad un nuovo modello Di business Per viaggiare i wrestler Ah sì Che è la comproprietà Ah certo La comproprietà Esatto Io prendo un wrestler In comproprietà Con un'altra federazione Non credo funzioni così Alla fine dell'anno Sì O ci stava l'accordo O si va alle buste Si va alle buste Certo Come no Cioè mi sembra Non credo funzioni così Non credo che legalmente Sia possibile Negli Stati Uniti Un sistema di questo tipo Vabbè Neanche più nel calcio Sarebbe possibile No in Italia Sì All'estero più che altro Non c'è mai stato Questo sistema O se fosse Il prestito Con l'obbligo di riacquisto Ma non c'è L'obbligo di riacquisto È un'invenzione giornalistica L'obbligo giornalistico L'obbligo di riscatto Scusami Prestato Con obbligo di riscatto Sì Non so la clausola Quanto sia stata fissata Insomma Ma sarà un fiasco di vino Un tozzo di pane Conoscendo la TNA Onestamente Quello c'hanno Non è che Infatti Il problema purtroppo loro È quello In questo momento Oddio mio Ma Eric La cosa che hai visto Ai pallonari È la stessa cosa Che sto vedendo io ora Quale scusa Passa Quella gara di 60 Sì è quella È quella È quella È assolutamente quella Io voglio Io voglio Che quella Si diventi sport olimpico Quella Corsa Cos'è Praticamente Sulla gazzetta Online Ho pubblicato Un filmato Di una gara Di una 60 metri piani Disputata tra l'ottatori di sumo Una delle cose più belle Che ho visto Negli ultimi due anni Probabilmente Poi rompeti i coglioni a me Per l'extreme ironing No Questo è Indentitivamente Meglio Di gente Che va in giro A stirare Sul surf In cima Dei grattacieli Qualcosa del genere Ricordiamo E ricordiamo Che domenica Sì Ci sarà Una carrellata Sulle migliori Mascotte Dello sport No sai che l'ho visto Sai che ESPN Sta facendo una carrellata Sulle Sulle mascotte Del college Praticamente Capeggiata Dall'api Andrea Immagino Dal settimo posto Hanno fatto vedere Uno Un college Che ha come mascotte Una roba Che teoricamente Dovrebbe essere un albero E' una delle robe più brutte Che abbiamo mai visto Anche Per quanto Una delle cose più brutte Che abbiamo mai visto Tra le mascotte E le mascotte sono brutte Quindi Figuratevi I livelli che tocchiamo Con questa roba Gazzetta Che tra l'altro Credo stamattina Ha pubblicato un articolo Anche sulla mia conoscenza Ah sì Una ragazza Che fa pallavolo Negli Stati Uniti Ah Caspita No 94 Grandissima pallavolista Tra l'altro Oltre che Vabbè Facciamo stare Ho capito Ho capito Ho capito Va bene Va bene Come si dice Torniamo Torniamo in match Più che altro Per quanto riguarda Delina No vabbè Facciamo una cosa Facciamo una piccola Parentesi Delina Seltan Tanto ormai Ne abbiamo fatte Ne abbiamo fatte A sufficienza Visto che abbiamo Giovanni qua Parliamo dello show IPW Frosinone Visto che tu eri presente Puoi darci una prospettiva Reale dell'evento Avrebbe meritato Due o tre volte Anche dieci volte Il pubblico presente Sì Questo siamo d'accordo L'abbiamo già detto Anche sabato Più che altro Se la cornice è stata quella Più che altro È per diversi motivi E che abbiamo Ampiamente Ampiamente elencato In queste settimane No per dare un giudizio Qualitativo sullo show Intendevo Sì Show che tra l'altro Sarà disponibile Presto in 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 I pay per view Sul sito dell'IPW Perché ho visto la pubblicità Ve lo consiglio Perché ne vale veramente Sì cercherò di metterci Metterci le mani Se non ha un costo esagerato Naturalmente Perché se mi costa 30 euro Posso anche andare a Con tutto il rispetto Però Un 10 euro Magari posso anche spendervi Volentieri Bisogna vedersi Sarà il match di Stiles Perché sai che Stiles No beh Stiles però ha vinto Quindi potrebbe Avesse perso Avesse perso A parte che In quelli dell'IPW Non sarebbero usciti Vivi dall'arena Probabilmente Perché ho visto Perché sarebbero arrivati Membri Della New Japan Armati di fucile Probabilmente C'erano venditori Di bevande giapponesi Sì Venditori sospetti Più che altro Che di italiano Avevano molto poco All'interno dell'arena E che erano giapponesi Però Che sembravano giapponesi Meglio No stiamo scherzando Ovviamente Però Però diciamo L'abbiamo detto anche In altre In altre sedi Della Della questione J-Styles Cioè che non Giobba lui Nei Nei suoi booking Nelle Non giobba Mi spiego meglio Non è che non giobba Non viene schienato Non viene schienato Nei match Quando deve perdere Più che altro Se deve perdere il match Lo perde Perde il match Non venendo schienato A parte che In pieritura A memoria Non mi ricordo Sì Però ha vinto il match Ok Se mi fai un tuo autofrifosso Ok Un schienamento L'ha preso Un schienamento L'ha preso Però ha vinto il match Alla fine fine Quello intendo Cioè Alla fine del match Ha vinto Certo Certo I match che lotta lui Alla fine li vince tutti Cioè Se tu guardi Anche in ringovolo O se li perde Non è lui quello schienato Sarà interessante Vedere quello che succederà Per esempio Ci sono comunque almeno Vai Dicevo Nella hyperview Ci sono almeno Tre incontri e mezzo Che meritano di essere visti Sì Sì L'hai scritto No ripeto Peccato la corvincia Però sfortunatamente Come Come posso dire Che poi ti devo dire Non numerosa Sì Casinista Ma fatta 687 paganti Quanti scusa? Almeno 680 687 Ah il totale totale Era 687 Ok perfetto Sì Almeno 680 Erano smart peggio di me Sì Sì È vero E ti ho detto tutto Quindi hanno fatto Casino per 2000 Sì Esatto Esattamente Ho fatto un casino Che è la metà bassa Ma sono molto pubblico competente Sì sì Bene bene Questa è una cosa positiva La vera cosa che La vera cosa che vogliamo sapere noi è Quello stronzo di youtuber Le ha prese seriamente No E smetterà di fare i video Per il resto Che Tal Mike Scioscia Che io ignoro completamente Vabbè Ce ne sta Allora Non apriamo Non apriamo Non apriamo il capitolo youtuber Più che altro Perché questo weekend È un weekend drammatico Data l'uscita Di un determinato film Che comprende youtuber Io continuo a dirvi Se qualcuno dichiara Ad andare a vedere quel film E non vi preoccupate Che li becco Quelli che vanno Finirà molto male Fabio Aspettiamo Che esca su Netflix Perché adesso è arrivato Anche in Italia Se esce su Netflix Sappiamo già cosa farlo Come distruggere L'ompiamente Conca miseria Perfetto Vai Allora Io sono andato a vedere Fox in 3D Secondo voi mi spavento Di Game Therapy Vabbè anche te Sei andato a vedere Sta minchiata Con tutto il rispetto Apro e chiudo una parentesi Non sei il solo Va detto Un'altra nostra conoscenza È andato a vedere Sta minchiata Però vabbè Andiamo avanti Aspetto un pochino A fare Netflix Perché ho visto Il trailer di Jessica Jones È qualcosa di Jessica Jones è molto interessante È qualcosa di spaziale Ah volete un consiglio Volete un consiglio Su cosa vedere Su Netflix Se è detenuto Fatevi l'abbonamento a Netflix Perché ne vale la pena Anche se ha meno contenuto Rispetto agli Stati Uniti Però di roba Ce n'è comunque Sufficienza Per riempire Le vostre giornate Purtroppo È solo presente La prima stagione Almeno per il momento Però vi straconsiglio Black Mirror Se non l'avete mai visto Che è veramente Una signora miniserie E di cui tra l'altro Credo che abbiano annunciato 12 nuovi episodi In arrivo Però in esclusivo Su Netflix Negli Stati Uniti E credo anche in Inghilterra Perché comunque In Inghilterra Prima di andare su Channel 4 In Italia Andiamo da su Sky Questa serie Vai Io vorrei solo Sprendere un'ulteriore frase Per lo youtuber Mike Chosha Tal Mike Chosha Tal Mike Chosha Ricordiamolo Recita come un cane Vabbè scusa Come un cane Permettimi Hai Presente Come sono gli youtuber italiani Generalmente Ti stupisci Del fatto che Se recitano come dei cani Ha una conoscenza Di quello che sta facendo Nulla Estrema Ah ok No estrema Perché immaginatevi Allora lui tifa È all'angolo Di Red Scorpion Sì Red Scorpion Prova lo schienamento Su Johnny Bono Sì Che è il suo avversario Che ovviamente Era il cattivo Della situazione Con Axel Fury Sì Uno Due Conto di due All'ultimo secondo Sì Lui si lamenta L'arbitro Dai arbitro Conta fino a due Cretino Conta fino a due Nel wrestling Demetri Nel wrestling Si conta Fino a tre Sì Tre Qualcuno fino a cinque E addirittura Faceva contare Infatti non so se Nell'alpay per view Si sentirà Spero perché Era in prima fila Ho iniziato ad urlargli Contro Che la metà basta Ho fatto girare Mezzo mio settore Per come avevo perso La testa Dulcis in fundo C'è un terribile Problema alla fine Sarebbe Quale il problema Facile Entrare nel ring Rotolando Ma provaci A scendere Senza scalette Sì Esatto Ti disfido Le ginocchia Praticamente Con l'agilità Di un ippopotamo Sì Ma dico io Ma era proprio Così indispensabile La presenza Di uno Che non aveva Neanche la più Pallida idea Di dove fosse E che quale fosse Il suo ruolo Eh È un'ottima domanda A cui non Non posso darti Risposta Sfortunatamente Poi Infatti Spero che si vedrà Ma penso di sì No purtroppo Eravamo di spalla Alla telecamera Quindi non lo so Sì Il suo wrestler Quello che lui appoggiava Nell'angolo Perde Sì Io Michael Aldo Lorenzo E non mi ricordo Michele Un po' Meno Perché Michele Si è un po' Defilato Da questo punto di vista Sì Saggiamente Aggiungo Esultiamo Dario Esultiamo Più di quando L'Italia Vince la coppa Del mondo Che Vedi Vedi Questo gruppo Di otto Mentecatti Sì A esultare Veramente Come dei pazzi Sì Io ho visto il video È una cosa Veramente Cioè Ci sono loro otto Hanno fatto un casino Cioè 20 secondi di video Mi mandi il link No Me l'ha passato Non mi ricordo Forse Aldo Su Whatsapp Adesso Provo a girartelo Quando lo trovo Te lo giro Ho capito il contesto Perché non avevo capito Sti otto disgraziati Che esultavano Adesso ho capito Perché Mike Shaw L'aveva preso Sostanzialmente Lui non è stato Neanche sfiorato Anche perché Non era in grado Beh ovvio Ma aveva preso Il suo press Era Morto Praticamente Cioè Aveva perso Altro momento Altro momento In cui ho Un attimino Perso La voce Strano Perché non ti capita mai Sì È stato Quando È stato Con lo speaker Dell'evento Ah sì Dopo Ecco Ecco Ti fermo un attimo Cosa è successo Nel main event Perché Girano Le teorie Più disparate Su cosa sia Effettivamente Successo Nel main event Allora Partiamo da Styles Contra Dennis Che non era il main event No esatto Ma era come se lo fosse Perché comunque Era il match Più pubblicizzato Ed erano Quelli più attesi Allora Prima caduta Ricordiamo Two out of three falls Sì Che Nella storia del wrestling Dagli anni 40 Oggi Sì Significa Il primo che mette a segno Due decisioni Vincere Esattamente Sì Perché Perché vi dico questo Perché Zero a zero Sì Styles fa cedere Daniels Sì Il nostro grande speaker Sa per dirci Il vincitore È Fortunatamente Qualcuno Lo ferma Appena in tempo Cioè Dico io Anche tu Sei lo speaker Dell'evento Non capisci niente Di wrestling Va bene Ti avranno dato Una scaletta Tu parli Quando succede questo Sì Che cosa ci vuole Eh Troppo difficile Troppo difficile Era mica lo stesso speaker Che nel Nel 2007 Credo che fosse A Milano Ha fatto La Ha fatto Diciamo La presentazione Della sfilata Durante Durante Il taping Di Raw A Milano Era mica lui No Non credo No Non era lui Non era lui Fatto sta che Ovviamente Nel Lì Poverino Ha fatto un errore Sparisce Dalla vergogna Sì Finisce dietro Le quinte Sostanzialmente Finisce E non ritorna Fino alla fine D'elemento Praticamente Qualcosa di simile No Non è che non ritorna Finisce l'incontro Daniels chiede Un microfono Perché vuole fare un prov Sono spariti Tutti Sì Io Nel terrore Che Daniels Rinunciasse Sì Inizia a urlare A inveigli contro Sì Anche lì forse Temo si sentirà Perché come dire Non so Prima Allora lui Chiaramente italiano Ma cercava di fare Gli annunci in inglese Sì Quindi il mio primo Urlo è Give me a mic You idiot Che era Come dire Più gentile Di quello che ho detto Dopo in italiano Sì Detto questo Nel main event Che cosa succede? Bella domanda Non si è capito un cazzo Non volevo dire Eh beh Allora diciamo Premessa Io sto parlando Delle cose negative Perché le cose positive Sono sotto gli occhi Di tutti Quindi Chi pensa Di giudicare Negativamente Uno dei migliori show Se non il miglior show Che ho visto in Italia Per queste cose Come dice Dan Peterson Ha sbagliato Indirizzo Completamente Sì Perché Se uno show Ti lascia Un ricordo E un'impressione Nettamente positive Anche Dopo un finale Del genere Vuol dire che Il resto È tanta tanta roba Detto questo Schienamento Assolutamente A sorpresa Di Aeris A sorpresa Non se l'aspettava Nessuno In quel momento Era quello il piano? Perché la domanda Era questa Più che altro No A quanto ne so io Il piano Doveva essere Una vittoria Di Aeris Comunque Ma per sottomissione Ah ho capito Ok Fatto sa che Non si capisce Più niente In quel momento Nel senso che L'arbitro Assegna la vittoria A Aeris Sì MVP Prende la cintura Con Axel Fury MVP era il cattivo Sì Aeris inizia a dire È tutto un complotto In vendo anche Contro l'arbitro Ma ha vinto Ma ha vinto Perché dice Tutto un complotto In vendo contro l'arbitro Che gli aveva dato La vittoria Vabbè Ma perché Non ha alcun senso Ok Come dire Del Piero Cerca di rincorrere Ceccarini Dopo Juventus Inter Nel 98 Ok benissimo Esatto Per dire Aspetta Cioè Non mi torno Non hai dato il rigore A Ronaldo Perché vuoi farci passare Per quelli che Complottiamo Questa è la logica Probabile Ok va bene Non lo capisco Alla fine Vanno nello stage Rincorrono nello stage MVP Io ho detto Vabbè Saranno andati nello stage Per ricevere un po' D'istruzioni E tornare E invece lo show Finisce così Con Angel Styles Che va al commento Non si sa se è previsto O se per sistemare Un po' la situazione Chiedendo un match Titolato Che sarà nel prossimo show Dell'IPW Quando sarà Questo show Più che altro Speriamo Cioè Se uno show Mi fai Edge Styles Contro Eris Buttalo via Certo Amici dell'IPW Fatelo un po' Più in alto Esatto Fatelo soprattutto Di modo che venga gente Più che altro Un pezzente come me Abbia modo di venire a vedere Senza spendere un capitale Di viaggio Non è necessario Che lo faccia Più in alto Fallo a Roma A Roma Sì Che comunque è una città Molto ben fornita A livello di infrastrutture Dove per esempio L'ultimo treno per Roma Non parta alle 9 di sera Per esempio Ovviamente da Roma A Roma Non ci sono treni Però In un posto Dove se uno deve venire Da Roma Non debba preoccuparsi Di prendere un albergo E di non praticamente Lasciare la città Fino al giorno dopo Praticamente Quello intendo Comunque vi dico A parte queste cose Ma Styles E Daniels 25 minuti Di spettacolo Ma veramente Di spettacolo Benissimo Hoskins Hoskins è un pazzo Hoskins Sì Hoskins 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 Se è scritto Hoskins Vabbè Comunque lasciamo perdere Hai ragione Ma io con le pronunci Sono quello che sono Sì E se pensate Che il wrestling Che il wrestling italiano Sia di basso livello Guardatevi il primo incontro Fra Adrian Sever E Red Devil Vi ricrederete Veramente Vi ricrederete Vedremo quindi Vedremo quindi Live pay per view Quando sarà È bellissimo il video Possiamo 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 mandarlo in onda Vediamo un attimo Se Ci contiene bestemmia No ma non si Eccolo qua L'esultanza che sto vedendo io in questo momento Assolutamente smodata Manda il gesto sportivo Alla stone cold Che facciano youtuber Che è esatto Che adesso Che adesso Che adesso vedremo Io ho visto solo L'esultanza L'esultanza immotivata Praticamente Perché l'esultanza Ah ok L'ho visto adesso Perfetto Va bene Purtroppo Ma perché Sì Poi vedremo di mettere Questo file video Magari sulla nostra pagina Di facebook Ringraziamo Michael Sì esatto Che ce l'ha mandato Riprendendo Riprendendo col telefonino Un pc Praticamente Va bene Di questo lo ringraziamo Sì Io sono pronto A smentire Io sono pronto A smentire La mia presenza Vabbè Lasciamo stare Ho cercato Di mantenere Un savoir fare Inglese Durante No ho notato Eh certo Sì abbiamo visto Guarda Si vede Si vede L'abbiamo pienamente L'abbiamo pienamente visto In questo filmato Che abbiamo A cui abbiamo appena assistito Salutiamo Giovanni Pantalone Che è dovuto Andare via Perché stiamo registrando Di venerdì sera Stiamo registrando Più che altro A spezzoni Praticamente La puntata Di questa settimana Noi proseguiamo Però Allora spieghiamo Cosa sta succedendo Cosa è successo Fuorionda Più che altro Abbiamo scoperto Purtroppo Perché io stavo Leggendo il sito Di Tutto Sport Praticamente Sul sito di Tutto Sport Hanno pubblicato Le foto Che l'Apo Elkan Ha postato su Instagram Delle sue Aghiaccianti Personalizzazioni Delle magliette Della Juventus Che vi consigliamo Di andare a vedere È instagram.com Slash Con i gessati E le scarpe Da ginnastica azzurra Color puffo Vabbè Andiamo avanti Va Andiamo avanti Torniamo a Elinasell Va che è meglio Visto che Visto che siamo qui Per parlare Dai basta Fabio Per favore Basta Cos'è 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 Cos'hai passato Da Twitter Questo arriva Allora Vediamo Vediamo un po' Cos'hai Cos'hai trovato Chi è questo Scusami Aldo Serena Aldo Serena Che soffia Del vetro Ma perché Ma per quale motivo Cosa cazzo Mi significa Stavolta Ma perché Aldo Serena Soffia Del vetro Di grazia Ma perché Ma perché Tutto questo Vabbè Lasciamo perdere E andiamo avanti Che è meglio No stavamo parlando Di Stavamo parlando Di Elinasell Roma Reigns Contro Bray Wyatt L'altro Elinasell Direi Reigns Mi pare abbastanza scontato Dici Ma penso di Penso che probabilmente Come al solito Avrò smentito No sai cosa Più che altro Io la fai da temo Vado avanti Dopo Dopo questo Dopo questo match Soprattutto ora che Che è tornato anche Eric Rowan Nell'allegro quartetto Conosciuto come Wyatt Family Però trovano un modo Per farla andare avanti Con la vittoria di Reigns Stavarida Temo Sì in un modo Nell'altro Comunque Arriveremo Arriveremo A su Vado Series Alla fine E temo E temo In un 5 contro 5 Adesso tra l'altro La Wyatt Family ha 4 Quindi O trovano un altro In questo Tyler Breeze Mettiamo Tyler Breeze Nella Wyatt Family Che non c'entra una minchia Vabbè Tanto di là hanno Grandi face Hanno dall'altra parte Che abbiamo detto Chi mettono dentro Non l'ho ancora capito Però il Team Reigns Reigns c'è E quindi Capitano lui Temo 2-2 di rating Cioè precisiamo Non è così semplice Il discorso Però Effettivamente A livello di prodotto Non abbiamo Dei grandi contenuti In queste ultime settimane La cosa Vince Russo però Dobbiamo per forza Parlare di Vince Russo Lui ha fatto il segmento Più visto Della storia del Vrest Che non è vero Comunque andiamo avanti Allora Stai zitto Non è vero Andiamo avanti Non è vero Il This is your life Non è il segmento Più visto Della storia del Vrest È uno dei più visti Ma non è il più visto Quindi smettiamola Ha fatto 98 di rating Ma non è Non può fare 98 di rating Non è possibile Che un programma Faccia 98 di rating Vuoi sapere Qual è un programma Che ha buona probabilità Di fare 98 di rating Anche su quello Ho i miei dubbi La fine del mondo Quello può essere Un programma Che può fare 98 o anche 100 di rating Ma la vedo Molto difficile Anche perché Sarebbe sparsa Sicuramente Tra mille Tra mille network Come al solito Ma tra l'altro Parlando di fine del mondo Ne avevamo già parlato In questa sede La sapete la storia Del video della fine del mondo Della CNN Forse sì Ne avevamo parlato Credo in questa sede O durante Durante una diretta Di punte Ma diciamo Spieghiamo perché Non dovesse Essere conoscenza La CNN Praticamente ha Sul suoi server Un filmato Che loro dovrebbero Mandare in onda Quando Diciamo Per chiudere Le trasmissioni E ovviamente La CNN Chiuderebbe Le trasmissioni Solo in un caso Ovvero Nel caso In cui il mondo Finisse Praticamente Questo filmato Che ovviamente È stato girato Tipo 20-30 20-30 anni fa È praticamente Un'esecuzione Di Amazing Grace Da parte Di una Da parte Di una Di un gruppo Di militari Credo E credo tra l'altro Sia Sia questo Perché C'è È questo Eccolo qua Mettete l'audio In sottofondo Amazing Grace È suonato Da Tipo una Band Girato tra l'altro Girato tra l'altro Ovviamente 20-30 anni fa Quindi Neanche in 16 Noni Qualità Video schifosa Naturalmente Turner Turner Doomsday Turner Aspetta Turner Doomsday Turner Doomsday Video È il titolo Del È il titolo Praticamente Del filmato Che c'è Che c'è Veramente sui server È uscito Come Diciamo È stata una leggenda Metropolitana Per molti anni Ma poi è stata Verificata Da un ex Impiegato Della CNN Che ha Effettivamente Ammesso Che Che questa cosa Effettivamente Esiste Sui Sui loro server E Niente 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 Non Tornando però A Diciamo A Elena Sella Parlavamo di Reigns contro Wyatt Questa faida Veramente Non ha Diciamo Non Non ha minimamente Interesse Almeno dal mio Modesto punto di vista Non so Non so voi Metti contro un comodino Un armadio Non è che puoi trovare Ma non è tanto Quello il problema È proprio la storyline Che proprio È ridicola E non è minimamente Credibile Capisci Puoi dare Tutte le storyline Del mondo A questi due Qui Uno contro l'altro Sarà sempre Una merda Sempre Fabio È andato Fabio Non abbiamo più Non ce la faccio più Non ce la faccio più Per vedere Sti due Contro l'altro Veramente No Tanto c'è una statistica Interessante Adesso la vado La vado Aggiungono gente Aggiungono caproni Cioè In effetti Letteralmente Letteralmente Rowan Nel caso Eh oh dai Che ci possiamo fare Per Dio Rowan Lasciamo un sondaggio È peggio Erick Rowan O è peggio Braun Strowman Perché secondo me È una bella lotta Secondo me Strowman È dieci spanne sopra È dieci spanne sopra? Eh Rispetto a Strowman? Cioè Chi dei due Rowan è più scarso Di Di Strowman? No al contrario Ah al contrario Ma di molto anche Dici Guarda che Rowan È bello scarso Sì vabbè Ma dai Quello là C'ha l'agilità Di mio nonno Che ha 90 anni Non ha 90 anni Strowman No mio nonno Sì però Ah ok Che tuo nonno Ok Che ha pensato Strowman Comunque vi do Questa bellissima statistica Di cui parleremo Di cui parleremo Più avanti Ogni match Confermato al momento Per Edy Nassel È avvenuto già Negli ultimi due mesi Perché abbiamo Omes contro Raib Che è avvenuto A fine settembre Come Come temi di Smeta Oltre che ovviamente A Night of Champions New Day contro I Daldi Boys È avvenuto Mille volte Sì Rollins contro Kane È avvenuto la settimana scorsa Charlo Niki Bella Night of Champions Reigns contro Wyatt Raw Undertaker Brock Lesnar Summerslam Ziggler Cesare Neville Contro Russell Schemus E King Barrett È avvenuto lunedì A Raw E per motivi Spiegabili Lo rifanno anche Il pay per view L'unica è L'open challenge Spiegato che non sappiamo Chi sarà l'avversario Ma tutti i match Che vedremo Se li abbiamo già visti Peraltro la maggior parte Credo anche con finali puliti Quindi Non c'è grande aspettativa Per vedere A parte vabbè Tucker Lesnar Perché comunque Hai avuto un finale sporco Perché comunque Devi finire Sta cacchio di faida Però Per dire New Day contro i Daldi Boys Basta Cioè veramente Basta Date i titoli I Daldis O dateli al New Day E cacciate a calci in culo I Daldis Ma secondo me Non li vincono Non lo vincono neanche stavolta Vabbè Però finisce la faida Però a questo punto Perché basta Probabilmente sì Il problema Il problema è che Per come hai fatto la faida Devi dare i titoli di Daldis Devi darglielo Il rovescio di una medaglia Che Vabbè Possiamo anche parlare di questo match Poi torniamo a Rains Wyatt Il problema di questo match E di questa faida È che comunque I Daldi Boys Sono freddissimi A livello di risposta Da parte del pubblico Sì Più che altro è che Gli hanno Gli hanno tolto Gli hanno tolto Il tappeto Così tante volte Da sotto le gambe Che comunque Da sotto i piedi anzi Sono over O meglio Non sono over Come pensi Come vorrebbero L'effetto nostalgia È già bello che finito Per quanto riguarda i Daldis Secondo me Sono troppo over Il New Day Sì Sono pienamente d'accordo È vero È vero È vero Non è tanto il fatto Che questi non vincano Cioè Abbiano avuto tante chance Non abbiano mai vinto Quanto Il New Day È veramente troppo over È troppo over Pur essendo comunque Un act comedy Alla fin fine Che non andrà Non andrà Non voglio dire mai Da nessuna parte Non voglio dire questo Però È comunque Un act che è decisamente Decisamente troppo over Per quanto riguarda Per quanto riguarda Non è comedy Però è anche un act Che comunque Come puoi pushare Alla fin fine Che comunque Non penso sarà pushato Poi alla fin fine Perché comunque Più di tanto Non è che puoi fare Cioè Io non vedo Il New Day Essere spinto Per esempio Per il titolo Per il titolo Dei Stati Uniti O simili Ma ti dirò Secondo me Quello che In questo momento Quel che ne sta uscendo Meglio dei tre È Xavier Woods Sto vedendo il New Day Con Con la fascia nera E con le iniziali X e W A Smackdown Per l'assenza Di Xavier Woods Che è finito Sul tavolo Lunedì Xavier Woods È quello che sta uscendo Meglio secondo me Sì Però Beh per la storia del trombone Che è una Minchiata Però funziona Sì Però funziona Però secondo me L'unico Che può essere Comunque credibile È Big E Credo sia Big E Big E sì Però Per il fisico Più che altro Anche perché Non sono pushati Sono lì perché Perché Lavorano bene Come team comedy Sono pushati Per quanto può essere Pushato un team comedy Naturalmente Però sono anche bravi Loro comunque Come New Day Non lotta male Oggettivamente Non è Un team fenomenale Però non lotta male Oggettivamente Quindi È in una situazione Molto particolare Perché comunque Sono Sono over E sono pushati Per quanto può essere Pushato un team comedy C'è più di Oltre questo Dubito possono andare Onestamente E oltre questo Onestamente Non ce li vedo Anche Detto con grande franchezza A parte Big E Naturalmente Con Fikinson Più che altro Puoi anche Pusharlo serenamente Ma devi cambiare Gimmick Naturalmente Xavier Woods No Xavier Woods Ormai Si è A questa Diciamo Questa Come posso dire A questa Non mi viene la parola A questa A questa dimensione Funziona benissimo Tra l'altro L'ho già detto E mi ripeto Se non lo state seguendo Seguitevi Il torneo più avvincente Che c'è in questo momento Su web Ovvero il torneo Di Madden Che è in corso Di Madden 2016 Che è in corso Sul canale Di Xavier Woods Su Che è il canale UpUpDownDown Dove tra l'altro arriveranno Arriveranno altre cose Tra cui la prova di gruppo Di Guitariiro Live Che penso sarà Molto divertente Quella Esatto Io comunque Al di là dell'analisi Che avrei potuto prendere oggi Se non ci fossero stati Dei mocciosi di merda Beh Hai tempo in questi giorni Ma prendono Io aspetto che cali Un po' di prezzo Cioè nel senso In questo weekend Non ho i soldi Ma prendono A parte il fatto che Guitariiro Live Alla fin fine Va preso Per giocarci In compagnia Non tanto Io onestamente Non rischio Non rischio Sare ergastoli Perché probabilmente Sarebbe finito Con un'accusa Di omicidio Pure Involontabile Ho capito Quindi probabilmente Meglio che Ho preferito Desistere No per chi era La Games Week Oggi non c'era Però ho visto le foto Per chi era la Games Week Per chi era la Games Week Oggi Complimenti per essere usciti Intanto Vivi Per essere usciti vivi Se avete meno di 18 anni Spero che la vostra vita Non arrivi a 19 Ma perché Dai Ok va benissimo E poi Eh E poi E dove E nel caso arrivi a 19 E diventate Impotenti Ok va bene Perfetto Allora 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 No dicevo Il pronostico Boh Non so cosa rispondere Su cosa Se devo essere sincero Su New Day Contro i Dudley Vinconi Dudley Sei sicuro? Mmh Boh Non lo so Sinceramente Io No dai Stavolta Stavolta Vinconi Dudley Eh Boh Veramente Veramente Li ammazzano Non che sia Non che non li Abbiamo ammazzati No Vinconi Dudley Stavolta Vinconi Dudley Guarda Secondo me Se finisce La Faida Tra I Wyatt E Reigns Eh Come succede Che Praticamente Hai I Dudley Potrebbero Finire Un 5 Contro 5 E Così Poi È Finalissimo Della 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 Fiden In Un TLC Che Secondo me È un match Naturale Per far finire La Faida Da questi due Stavo leggendo Un commento Sul forum Stanno parlando Del TLC Un tribus match Scusa Sì Stavo leggendo Un commento Sul forum Sul debutto Di Tyler Breeze Chi ha visto Il debutto Di Tyler Breeze All'altro Smack Io non ho ancora Beh Guarda Tu non hai Sky Io non l'ho trovato Neanche poi Così male Onestamente Non ha fatto Una brutta figura Più che altro Il commento Che ho letto Le forme Personalmente Non dubito Che sarà Tyler Breeze Da frontare Sina Lo hanno già Inserito In una faida Contro Ziggler Insieme a Fandanga Cioè Sam & Ray È stata ribattezzata Fandanga Adesso Sul forum È un termine Che mi piace Molto Quindi Sam & Ray D'ora in poi Sarà definito Fandanga Anche in questi In questi Lidi No Tornando A Tornando a Lina Sel Dicevamo Di Reigns Contro Wyatt Io sono in dubbio Onestamente Su chi vince Io dico Reigns Che poi È un dubbio Anche nel tipo Chi se ne frega Perché tanto Sappiamo che Andrà avanti Poi La fin fine Perché dubito Che Intendiamoci La situazione Come detto prima Dei face È grave Per quanto riguarda Llewb Però temo Che andranno avanti Verso Lo series Non penso che Cambieranno radicalmente Per survival Series Per sperimentare Qualcosa di nuovo Non ci credo Neanche se lo vedo Ne sarei contento Ed sarebbe anche La cosa più sensata Con tanti rating Devastanti Delle ultime settimane Però dubito Che lo faranno Non so Cosa ne pensate Tanto vedo Inquadrata La stardust Section In questo In questo momento Perché Ricordiamo che L'altra faida In corso In questo momento È Stardust Contro Cesar Quindi No Un faidone A 6 Eh sì Non è ben Anche parlato Di quel match Vabbè Chi se ne frega È un match Che mi hai visto Arroi È stato una merda Già Arroi Vogliamo rivedermi Mi toccherà Vedermi anche Nel kickoff E farne anche Il report Tra l'altro Di sta schifezza Eh Magari viene Un bel match Eh Sì sì No Vabbè Sarà No Gli elementi Dentro Sono anche Abbastanza Buoni Da quel punto Di vista A livello Di lottato Però Sai che sarà Il solito match Senza Senza Caponecola In cui Penso Vinceranno I face Dovrebbero Vincere I face Penso Vincano I face Perché Se invece È fatto Che in WWE Si booka Tutti 50 E 50 Hanno Vinto Gli La Raw Quindi Vincono I face Molto Semplicemente Non capisco Il senso Di Di fare Il match A Raw E poi Di rifarlo Tale E quale Sei giorni dopo Il pay per view Però Va Che ci possiamo Che ci possiamo Fare Vabbè Cosa vogliamo dire Di quel match Vincono i face Schienamento Di chi Su chi Il six man Del kick off Io ho messo Cazzo ho messo E non lo trovo C'è Ziggler In quel match Quindi Non escludo Un'interferenza Sai che Pensandoci Potrebbero Anche Perdere i face Con L'interferenza Di Tyler Breeze Pensandoci No Secondo me No Perché Ziggler In quel match A meno che Non cambino Il match Nel weekend Il che è Possibile Conoscendolo WWE Teoricamente La presenza Di Ziggler Sembra Presupporre Una sconfitta Per Cioè Per fare un arlante La faida Più che altro Che è iniziata A questo punto Perché mi aspetto Che Ziggler Venga distratto Durante questo match Se c'è Tyler Breeze E penso che ci sarà Tyler Breeze Perché se no Non ha senso Cioè fai il match A SmackDown E poi Inizi la faida A SmackDown Poi fai lottare Ziggler Diciamo Al pay per view E non fai Interferire Tyler Breeze L'unica L'unica giustificazione Che posso accettare Eventualmente Per un'assenza Di Tyler Breeze E Tyler Breeze Risponde all'open challenge E interviene Ziggler Ma a quel punto Breeze perde E non credo che Non credo che Non è la cosa che farei Onestamente In questo momento Secondo me Non conta talmente Un cazzo È una buona Sì È una tesi È una tesi Che mi trovo Abbastanza d'accordo Effettivamente Pensate Che non è vero Che non conta Niente Non è vero Che non conta Niente Non conta Una minchia È diverso Non conta Una minchia Letteralmente Io ho messo Neville Su Barrett Neville Su Barrett Perché dobbiamo Andare avanti Anche con questa Faida di merda A cui non frega Niente a nessuno Che può avere Un po' di senso Ziggler E Rusev Boh Non credo Che sia Ziggler Niente Niente di niente Spero di no Spero di no Però temo Che lo vedremo Sfortunatamente Minuttaggio De 5 e 10 Non penso Andremo oltre Ma mi passa Anche i 10 3 contro 3 10? Pena appena Un six man Magari 10 12 minuti Glieli danno Ho capito I tag Si sono sempre Quasi sempre presi A meno che non fosse Uno squash Nel press show Nel press show Sì Più che altro dipende Perché comunque Ti ti ricordo Che hanno anche molto Da quando Parlosamente Da quando il press show Ha cominciato a durare Un'ora I match sono durati Sempre di meno Se l'hai notato Sì è vero Quindi non Sì perché Buttano dentro Un sacco di cazzate E beh sì Per posto Devo far parlare Del niente La gente per 40 minuti Giustamente Io la trovo Sempre molto interessante Ma va a cagare Che tu non mi guardi Neanche i press show Smettila Che qua dentro Mi sa che sono L'unico che guarda I press show No io lo guardo Più che altro Perché devo Non per altro Purtroppo a sto giro Il pro show Inizierà a mezzanotte Esatto L'unica cosa positiva È che il pay per view Stavolta finisce alle 4 Invece che alle 5 Quindi da quel punto di vista Siamo molto ben messi Però non posso dormire Fino a luna Come al solito Devi alzarti presto Lunedì No non ho un cazzo da fare Come si metti Niente Tu lo fai lo stesso No beh Intendiamoci che Negra Dorme solo fino a luna Lunedì mattina Solo quando è qua Più che altro Quando siamo tutti qua Per vedere Per vedere il pay per view L'unica mattina In cui dormo fino a luna È il giovedì Perché giovedì non ho lezione Quindi posso dormire Tranquillamente fino a luna Esattamente Però mercoledì Non c'è una minchia Quindi A meno che non vuoi vedere PNXT e SmackDown Però NXT si può recuperare Un demand SmackDown anche No mi fa comodo Per i take cover Per i take cover Sì effettivamente hai ragione Su take cover Sì Beh il prossimo però Non è in piena notte Quindi prossimo In prima serata Ora nostra L'ha già detto l'orario Tra l'altro Non mi pare di take cover No non credo Secondo me lo annunciano Più avanti Lo diranno Nei taping magari Sì e tra l'altro Non diamo Non diamo spoiler Non diamo spoiler Ma stanno mettendo su Dei match per Londra Uno in particolare Che non vedo L'ora di vedere Guarda Vabbè no niente No 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 Fermi 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 È per la prossima Sessione di taping Quindi niente Sono triste Solo per una cosa Sì Che Ci sarà un ritorno Nella prossima serie di taping Il ritorno di Mamari Sì E purtroppo Smettono di farci vedere Quei bellissimi promo Da Parigi Che io sono innamorato Dai io rimango Dell'idea Che sia Che sia Una grandissima gimmick Quella di Mamari Cioè È evidente È evidente Che ci sta marciando sopra È evidentissimo Che il Pare veramente Pare veramente Pare che la Che la Che la Che ieri Che quando hanno registrato NXT Alla Alla full sale Giovedì sera Pare che non Facessero talmente Tanto casino Sui confronti Che non sono riusciti A fare un promo Praticamente Proprio La odiano Che alla fine Va bene Cioè È la Go away Alla Xbox Andiamo a vedere Però È un heal Quindi tecnicamente Tecnicamente Va bene Da quel punto di vista E purtroppo Inizia a lottare E il resto È storia Sfortunatamente Sembra comunque Quei match Che stai facendo Nel video show Siano meno schifosi Di quelli che fanno In puntata Eh Poi c'è un grande Ridebutto Non Non rimango scettico Su questa cosa Però vedremo 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 No vabbè Vediamo C'è anche un grandissimo Ridebutto Nella prossima serie Di tene Che sono Che fare Chi è che Ridebutta Che non ricordo È la più grande Diva di tutti i tempi Oddio Chi è che ridebutta La più grande Diva di tutti i tempi Eh Dai Scrivimelo su Skype Perché non Ho un momento Lei Ho un momento Di vuoto Ho un momento Di vuoto Ah Sì Giusto È vero Adesso sì Beh È un grandissimo Ritorno Tra l'altro Non vedevamo loro È un grandissimo Ritorno Vabbè Vabbè Torniamo a Ecco Mi apro questo Che voglio Voglio vedere Com'è nel Com'è nel gioco Se l'hanno reso Un pochettino migliore Bah oddio Insomma Nemmeno Nemmeno Poi tanto No Sto vedendo L'ingresso Di 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 In WB2K Praticamente Con Con la vecchia Con la vecchia Praticamente Perché praticamente Nella 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 WB2K16 Tra le varie rete C'è anche L'arena di Raw Nel 99 E c'è l'ingresso di L'hanno reso leggermente migliore Rispetto allo scorso anno Vince Ma non poi così tanto Guardando Guardando le immagini L'anno scorso era particolarmente Atroce il modello di Vince Quest'anno Quanto meno Sembra un pochettino Un pochettino migliore Mettiamola così WB2K Esce la settimana prossima Quindi Poi ve ne Ve ne parleremo Non so se riuscirò a mettere le mani sul gioco Al day one Però L'obiettivo di prenderlo c'è Quindi poi ve ne parleremo anche All'interno della Della tradizione Cosa abbiamo saltato di Alina 6 Sembra stato un mucchio di roba Altro link in arrivo Ancora da Ancora da No 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 Ho letto da dove proviene Cosa cazzo è sta roba Vabbè ma Ma è già un po' che è in giro Quella roba lì che hai Che stai mandando No È nuovo Madonna mia Che schifo Madonna mia che schifo Ok A chi lo regaliamo questo Porca putta Chi è il prossimo Chi è il prossimo Fabio Fabio Tocca a te E poi c'è il cappellino di Forza Motorsport Guardalo Guarda Guarda È molto simile effettivamente È molto simile Solo che Preferisco con il logo di Forza Motorsport Onestamente Che non Che non con il logo della TNA Con rispetto parlando Tu lo sai Fabio Che questo ti arriva diretto Vero Sì Sulla testa No Però non è quello di Forza Motorsport È i colori invertiti Sì 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 È il cappellino della Williams Però guardandolo I colori sono quelli C'è purtroppo il logo di Impact E non quello della Williams Ragazzi Che belle maglie Che sto vedendo Adesso vado a vedere Più che altro Le novità Le novità Del No cazzo Eric Cosa Non va Fabio Sto cappellino A chi va Chi è il prossimo C'è un povero sfortunato di mezzo Quando si parla di TNA Ah Sì Davvero Sì 35 dollari La Legends of the Ring Si chiama Che bella Vogliamo prenderci quella Io direi di sì C'è il mug di Easy Free A 5 dollari Vogliamo prendere quello Che bello Sì C'è la La maglietta di spada Con spada fumettoso Che bruttissima Che costa 25 dollari Scusate Siamo sotto Natale Dobbiamo tenersi queste cose Per Natale Sì Questa è una delle cose Più belle No scusati Guarda quella di spada Più che altro Che quella Guarda Guarda l'action figure Che è toppe da passare Sì Ok Prenunciamo che è di Hulk Hogan Questa Questa action figure Dal sito europeo Della Della TNA Vabbè Questo è il periodo Periodo ill Quando eri in AWA Però Scusami Sì Il fatto è che Non ci assomiglia neanche No neanche Perché c'è il logo Della New Japan Perché credo sia Nel tuo periodo Della New Japan Poi non so Loghi a cazzo Sì Loghi a cazzo Sì C'è scritto da parte NJPW Sì E la New Japan C'è trattamente con la TNA Che schifo E della Jax Che strano Perché la Jax Cioè Non so Non ho mai visto Hogan in Giappone Prima della WWE Più che altro Perché penso Che schifo Costa 8 sterline E sta roba Tra l'altro Non è meno Perché Io spero che C'è del merchandising Veramente tremendo Tu pensa che Tu pensa Cioè A WWE non è meglio Perché comunque C'è il merchandising Di Halloween Adesso che figura C'è delle robe Delle robe che fanno Semplicemente spavento Da quel punto Da quel punto di vista Guardando Le cose che ci sono Le cose che ci sono Adesso Sul sito della TNA Noi scherziamo Meno male Però C'è del merchandising Abbastanza Abbastanza bruttino Da quel punto Da quel punto Di vista Belli anche i modelli Che hanno scelto Per il materiale Della TNA C'è James Thorne Anche C'è Bram Vabbè Adesso vado a vedere Su quello della TNA Della WWE Perché sicuramente Su WWE C'è della roba Secondo me Molto molto peggiore Da quel punto Di vista Bello intanto Bello intanto Il meteo Come si chiama In Texas Sto vedendo Non gireranno Ma Ma dove Non è già Essere iniziato La sessione di prove Cos'è Hanno rinviato La sessione Perché non girano E il cronometro Ferma un'ora e mezza Quindi mi sa che Mi sa che la cosa Va per le lunghe C'è il DVD Vai Mi ha saldato Due mesi Comunque Nel frattempo Sì sì Lo so Lo so Stiamo divagando Oggi Vedo che è arrivata Abbiamo fatto una nuova serie Delle ciabatte Sul sito della TNA Scusami Sul sito della WB Ci sono gli stivali Da donna Con Bree Randy Orton E Roman Reigns C'è Diciamo Le varie coperte Con i loghi Della WB Gli orsacchiotti No scusate Fermi tutti Fermi 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 Un regalo Abbiamo un regalo Non pensavo Ma l'hanno messa In vendita Adesso vi dico Anche cosa Aspetta Ho già capito È un dvd No non è un dvd Non è un dvd È molto meglio Adesso ti passo Te lo passo Non pensavo che la mettessero in vendita Ma ha senso Che l'abbiano fatto Signore e signori Stanno effettivamente Vendendo La tazza Con scritto World's Greatest Director of Operations Che è quella che usa Kane durante Raw Non ci credo La stanno vendendo Costa 10 dollari La voglio Ma porca Ma gli do 150 Di dollari Non pensavo Che iniziassero a venderla Che bella E tra l'altro È in back order Cioè è andata esaurita Sta roba Ritorno al 28 Sta roba È andata esaurita Non sto scherzando Grandissimi Varie maglie Varie maglie Maniche lunghe C'è La replica Del giubbotto Di Dean Ambrose Che costa 120 dollari Però ci può stare Comunque una giacca di pelle Penso E basta Di robe Di robe degne Di questo nome Più che altro Le magliette I bicchieri I bicchieri Con le facce Di Roman Reigns Del resto Dello Shield Calendario a muro Nel 2016 Con John Cena The Rock E Randy Orton C'è un po' di roba C'è un po' di roba Adesso La maschera di Sin Carb Che vuole farsi del male A 50 dollari Perché automaticamente Ricordiamo che Indossando la maschera di Sin Cara Diventa scarsi Praticamente C'è Ci sono Tanto in questo weekend Finisce le 25 Ci sono delle robe Al 50% Fino al 50% Di sconto Non al 50% Però fino al 50% Di sconto I vari zainetti Vedo Le magliette suplexiti Che hanno 10 dollari 10 dollari Però sono quelle personalizzate Per la città Ma sono cose che ogni tanto Mettono In In vendita Sul sito A prezzo Ribassato Io volevo vedere Più che altro Le robe di Halloween Perché secondo me Ci sono Non so se ci sono già C'è la maschera C'è la maschera Mera della Wild Family Però Hanno cominciato a venderla Categori Saranno le categorie Ma c'è dai Sembra strano Che a una settimana Da A una settimana Da Halloween Non c'è Costumes Eccoli qua Sarà qui sicuro Sarà sotto Sarà sotto Costumes Dai Ci sono ancora Purtroppo Purtroppo C'è ancora Il cappellaccio Con Come si chiama Con la Con la coda Di Naomi Con i capelli finti Che tristezza Che schifo C'è quella Cagata Mi hai Credo che sia Per il network Probabilmente Qualcosa di simile Sì No ma Vabbè Vabbè Più che altro Non è tanto Il fatto che ci sono I cavi HDMI In vendita Ma il fatto Che è il prezzo Del cavo HDMI Che è abbastanza Abbastanza alto Onestamente Vabbè Sai Di peggio Non essere più ladri Che senso Vabbè 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 Ok no Le prove Della Formula 1 Non inizieranno Prima di Sono sospese A tempo indefinito Quindi mi sa Che la seconda Sessione salta Del tutto Vabbè Perché non stiamo Registrando di venerdì sera Torniamo ai Linus L Cosa abbiamo saltato Di match Il fatto Che noi Non stiamo parlando In abbondanza Di questo pay per più Di mostrare Il nostro livello Di coinvolgimento Per quanto riguarda Questo show E' uno sticazzi Grande come una casa Questo pay per view E' proprio enorme Sì Charlotte contro Nikki Bella Ravviviamo un po' La discussione Charlotte contro Nikki Bella Fabio Allora Ecco Sentiamo Questo parte Con la disamina serie Vedrai Ma non credo Allora Se il wrestling Fosse uno sport serio Ecco Il titolo Tornerebbe Alla vita Dell'unica Campionessa Che meriterebbe Sì E cioè La La Cioè Il titolo Sarebbe intorno Alla vita Di Sasha Banks Se questo fosse uno sport serio Ma visto che non lo è Ma per piacere Queste mode del momento Ok Andiamo avanti Chi è La donna Che da anni Sta portando Questa compagnia Sulle sue spalle Sì Purtroppo Nikki Bella Indie Indie per cui È giusto Che sia lei Il main event Dello show Ma addirittura Il main event Dello show Certo Addirittura Il main event Sì Sì Il main event Di Alina Sel Certo Se abbiamo avuto Due ragazze Nei main event Di NXT Siamo pronti Per averla Anche nel main event Sì Ma non credo Che sia Nikki Bella La persona più adatta Con tutto il rispetto Nikki Bella è andata Per far tutto Adatta a far tutto Sì Che detta così Può essere interpretata In modo sbagliato Certe cose Detta così Onestamente Io non la direi In questo modo Avrei qualche obiezione Esatto No vabbè Vince Charlotte E basta Perché Insomma È giusto È giunto il momento Di dare nuove avversarie Decenti Possibilmente Con tutto rispetto A Nikki Bella A Charlotte Facciamo Charlotte Contro Sasha Banks E buonanotte E andiamo avanti Per i prossimi sei mesi Se io vuole Con questa Con questa faida Di qualcosa Andrea No 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 Eric Dopo quello che ho appena sentito No Cosa vuoi dire Quello Quale Quello che ho appena detto io No Quello che ha detto Fabio Ok Mantiene Charlotte Spero Nel minor tempo possibile Esatto Spero meno di 10 minuti Purtroppo Credo che gliene diano Sì Temo Temo anch'io Che Temo anch'io Che il minutaggio Sarà Spero anche cosa ho messo io Di minutaggio Eh 10-15 Forse Temo 10-15 Perché comunque Mi sa che Andremo anche qui Però di poco Non di tanto Penso Non di tanto L'altro match Quale 10-15 Sì 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 Sono Da quel punto di vista 5-10 Non mi trovi In disaccordo Da quel Da quel punto di vista Più E l'altro dai Kevin Owens In 10 minuti Abbiamo finito La disamina Owens in 10 minuti Sì più o meno 10-15 Se esiste un Dio Che l'altro match Era Ryback Contro Kevin Owens Presidente continentale Sì No Io onestamente Vado su 5-10 Con 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 Coso Io li ho messi Da Charlotte Nick Perché si in effetti Ha più senso Metterli qua 5-10 Non credo Non credo Che arriveremo A Come si chiama A un minutaggio Esagerato Per quanto riguarda Ryback Contro Come si chiama Ryback Contro Non mi viene La Owens Contro Owens Sì scusami Non mi viene il nome Sì no Già tanto si arriva 10 minuti Sì sì Sono Sono d'accordo Onestamente Non penso che Non penso che Avremo un minutaggio Minutaggio esagerato Per questo Per questa contesa Più che altro Perché Ryback Non ce la fa Non per altri Non per altri motivi Non per Non per cattiveria Onestamente No Cosa abbiamo saltato A livello di Verdetti Direi niente Taker Lesnar Vince Lesnar Abbiamo detto Il six man Tactic match Dell'opening Chi se ne frega Tanto penso Penso Lincano in face Reigns Wyatt Può andare In entrambi le parti Rollins Kane Secondo me Vince Cambridge Qualifica O simile Charlo Nikibella Vince Charlo Pulito Dudley Boys Battle in New Day Owens Conserva con Ryback E John Cena Dipende dal suo avversario Più che altro Perché la questione Credo che sia Tutta lì Da quel punto di vista E direi che ci siamo A livello di A livello di Prognostici Cosa da dire di questa settimana In generale Al di là di Elina Cell Non credo che ci sia Moltissimo Davide B Network È arrivato anche in India Se abbiamo ascoltatori Dall'India Ma non credo Comunque è disponibile E più che altro È un grosso mercato In cui la Davide B arriva Credo che di mercato grosso Da fine per quanto riguarda Per quanto riguarda La Davide B Ma anche solo il Giappone Di fatto Ah beh la Germania La Germania La Germania sì La Germania non ci sono ancora Perché più che altro Hanno un accordo con Com'è che si chiama Il Netflix Tedesco Come si chiama Oh mamma mia Come si chiama Aspetta un secondo Che non mi ricordo Non mi ricordo il nome Di come Max Dom Max Dom Credo Heinz Weipholzer No 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 Max Dom Max Dom Ma diudere Rimasto solo a Germania E il Giappone E il Giappone Germania, Austria, Svizzera E il Giappone Sì vabbè poi Come è stato i tempi Per l'Italia E anche gli altri paesi Dove il WB Network Non c'era Alla fine Modi ce ne sono Per accedere al WB Network Anche dalla Germania Naturalmente E anche per accedere E anche per accedere A Netflix Tra l'altro Come si Dice la Germania Si porta Io ho vinto contatti In Svizzera C'è questa cosa Assurda Del fatto che la Germania Si porta dietro La Svizzera Per motivi Sì esatto Spiegabili Esattamente Esattamente Perché comunque Per questioni Diciamo Per maggioranza Linguistica Però È abbastanza È abbastanza Allucinante Come cosa Diciamo Sì Beh Più che altro Credo che siano Le dirette conseguenze Anche nel mercato televisivo Per quanto riguarda la Germania Sì sì Assolutamente Perché comunque Perché comunque Diciamo che la Come posso dire Le pay tv tedesche Sono Quando prendono i diritti Se li prendono anche per la Svizzera Per l'Austria Credo Esattamente Esattamente Che è anche un paradosso Perché comunque Per esempio Sky Ha i diritti Per la Champions League In Germania In Svizzera E in Austria Però I diritti I diritti Vengono comunque venduti Anche Credo Credo che anche Teleclub In Svizzera Ha i diritti Della Champions League Giusto Teleclub È Ha i diritti Che è strano Quindi Tecnicamente Hanno due pay tv Hanno i diritti Della Champions League Però sono diritti particolari Sì sono molto particolari Su fibra Vedi anche Diciamo La questione La questione Più che altro Dei criptaggi Che noi tifosi Della Juve Abbiamo ben Ben sperimentato In settimana Con la questione ZF Per quanto riguarda Per quanto riguarda I diritti Della Champions League Sì E che non sarà Precisiamo che non sarà Ripetuta Delle prossime due partite Le prossime due partite Ci sono Sono già in programma Sono altre squadre Magari per l'ultima giornata Ci sarà un'italiana O la Roma O la Roma O la Juventus Però al momento Non è dato Non è dato a saperlo Perché comunque Hanno deciso Fino alla quarta La quinta giornata ZF La prossima giornata Arsenal A Bayern Monaco La quinta giornata Credo che sia Borussia Mönchengladbach La partita che fanno Che fanno vedere Ancora non abbiamo Non abbiamo Non abbiamo indicazioni Per quanto riguarda La stessa giornata Vabbè Poi comunque Diritti d'Italia Legalmente Ce li ha Ce li ha Medias e Premium Come ampiamente detto Esatto In più di una sede Per tre anni Lo ricordiamo Sì esattamente Almeno Almeno per quest'anno Ce li hanno loro Poi Vedremo quello che succederà Durante Durante l'estate Vedremo Vedremo quello che accadrà Le subconcessioni Possono ancora avvenire Piccilone Non Piccinini Piccilone Paolo Sartori Dice che Secondo lui L'Open Challenge Sarà rispondere Precious Mothers Non so per quale motivo Non so perché Io stacco un secondo Gente Torno dopo Guarda che abbiamo Quasi finito Mi sa Adesso leggiamo le domande Ci metto due minuti Vai tranquillo Quozzo ha chiesto Quale sarà il match ideale Per Grande Quozzo e Nero E Mattia ha risposto Reigns Wyatt Il match delle donne Prodostici di Mario Paglionico Lesnar Wyatt E piango per questa trottura infinita Owens Dad Isabino TLC Non ci voglio arrivare Per fare sto cazzo di table match Charlotte Che è in presqualifica Lo sfidante di Sina Che se esiste un Dio e Breeze Sono Bastardi e Vacant Ergo Sina vince l'Open Challenge Rende il vacante Il titolo A match finito No non credo Non credo che arriveremo a quello Cioè non avrebbe senso Più che altro Credo che piuttosto Parte e va via Col titolo ancora da segnare Cioè col titolo ancora Comunque Intorno alla vita Non conto per ciò Perché sti cazzi E' pienamente d'accordo con te Io più che altro Più che altro Una domanda per voi Dice Agli Oscar Constantino Non avete nemmeno hype Per Lesnar contro Taker Io almeno per quello Sì Non scherzo Ma il match sarà anche bello Il problema è che hanno fatto Un lavoro pessimo Di costruzione del match Perché è un match Perché è un match che arriva È un match che arriva Troppo in fretta E su quello posso eccepire Nel senso Non arriva in fretta Sì arriva troppo in fretta Questo è un match che andava fatto Nell'anno nuovo Eh sì Però Più che altro Più che altro Parlo a livello di costruzione Cioè comunque Sì però Con questo pay per view Qua In quello scenario Comunque lo stai potendo Sì Certamente Però lo devi costruirlo Lo ritengono Devi costruirlo però Sì sì Assolutamente Il problema non è stato fatto Più che altro Questo era Un suffolo di lavoro Di costruzione qua E quello Il guaio Praticamente Perché se fosse stato Se fosse stato costruito Con qualche segmento Almeno mi dici Vabbè C'è Ok però Non Non è stato costruito Per niente Questo No E quello è il guaio Della faccenda E comunque Ripeto Secondo me È un match che arriva Troppo in fretta Nel senso che comunque Hai fatto Summers Dovevi comunque proseguire Secondo me per mesi Sulla Per arrivare Praticamente un rematch E non annunciarlo a cazzo Durante Night of Champions Quello intendo anche Per arrivare Troppo in fretta Esatto Ripeto Non è un match Non avevi Non avevi Non avevi Non avevi Non avevi Cioè ti rimaneva Rain's Wyatt Come di Nassel E Kane contro Beh Kane contro Rollins Volendo Siamo seri Dai No E vabbè Siamo seri Rain's Wyatt Kane contro È match per il titolo È match per il titolo Ragazzo Come? Devi fare il WWE Network Non puoi venderelo Con 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 Qua Eh Vabbè Non so Siamo in disaccordo Più Più che altro Sul fatto che il match Arrivi troppo presto Tra te che E l'esmer Non è il problema di essere inaccordo o disaccordo È il problema che qui Ogni mese bisogna regalare qualcosa Cioè a scapito magari di card brutte Però un match Top O qualcosa di top Deve farci una volta al mese E questo mese C'era questa cosa qui Dobbiamo vedere cosa si diventeranno Per il prossimo Sì Secondo me Secondo me arriva troppo presto Ma Semplicemente Io sono convinto che abbiano sfruttato L'occasione giusta Con l'Elinasel E arriva presto Semplicemente perché L'Elinasel è piazzato In sto mese Ma Credo che non abbiano fatto Una scelta sbagliata A metterli nell'Elinasel Come ultimo match No Non è sbagliata di base L'idea Però per Con i match di Summer Secondo me Dovevi andare avanti Qualche mese Con Diciamo la Come posso dire La Le sfide I promo E cose di questo tipo Per Per arrivare poi A un match finale Potevi fare un Elinasel Magari Anche al di fuori Via L'Elinasel Come hai fatto per esempio Sì sì Triple E Triple E Androtecario E Stelmenia per esempio È il problema È il problema di L'Elinasel Cioè È È il pay per view Un pay per view Che si chiama Che si chiama Che si chiama così E Come 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 posso dire Devi per forza Devi Devi per forza Come Come posso dire Non mi viene una parola Aiuto E devi per forza Fare Un E Devi per forza fare un Elinasel Giusto perché È un pay per view Che si chiama Elinasel Sì no Più che altro Evidentemente Hanno un'altra cosa Da fargli fare A sti due A Stelmenia Altrimenti L'avrebbero tirata avanti Un po' di più Hanno Io sono convinto Che secondo me L'ultimo Il match Avrà la stelmenia Di te Che era l'ultimo E magari lui Ha deciso di chiudere Con qualcun altro Non ne ho idea E niente A posto Ah Poi 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 Vediamo un po' A parte il main event Tutto il resto è fuffa Perciò pronostico Solo Lesnar vincitore Così che possa mantenere Tutto il momento Faticosamente guadagnato In due anni Tanto il becchino Non è stato stalmente elevato Che può benissimo perdere E tornare giusto in tempo Per a Stelmenia 32 Sì Non mi trovo in disaccordo Onestamente Lo stesso diciamo Che varrebbe per Lesnar Però Parlo solamente Lesnar Da una sconfitta con Taker Poi Potrebbe Riprendersi solamente To Vincendo L'Oreal Ramo Per esempio Per fare un paragone Che potrebbe avvenire Attenzione Esatto Non sarebbe così Scontato No così inusuale Più che Non sarebbe Non sarebbe così inusuale Talmente poco interesse Per questo evento Che vi pronostico solo La vittoria di Kane Per squalifica Quella di Lesnar E purtroppo quella di Wyatt Con 6000 run in Per fortuna ci siete voi A intrattenerci in questo brutto periodo Grazie Molto gentile Fin troppo anzi Lorenzo Marchesi Lorenzo Marchesi Bree Wyatt La gemella con le tette piccole Della family Concento ranina Cazzo Rollins con incassone Di Seamus Voglio piangere Dudley Owens Charlotte Lesnar Lo spero Sfidante open challenge Hashtag Gives later a chance Leonardo Ibba Lesnar Reigns Sfidante di Sina Spero Breeze Owens Dudley Charlotte Nottecamper Squalifica Poveri noi Mario Di Giulio Chiude degnamente Dicendo Non vince nessuno Perdiamo tutti Su questo Non mi sento di dissentire Onestamente No Direi di no E basta Non ho altri Non ho altri commenti Per quanto riguarda Questa puntata Quindi direi che possiamo Fermarci qua Per quanto riguarda Il caffè di questa settimana Allora Gli appuntamenti con noi Non saremo in onda Cioè Questa sera Saremo in onda Con i pallonari E con il calcio Più che altro Da mezzanotte Poi su Youtube Sul canale di Michael Pepsi Plunge Com'è? Big E Big E In The Cell Non mi ricordo Big L In The Cell Cioè Praticamente Il loro Il loro commento Del pay per view Big E L L In The Cell Sì Ma poi cercate L'angolo del Pepsi Plunge Su Youtube E trovate praticamente La pagina Domenica da mezzanotte Loro seguiranno in diretta Il Il pay per view Io Mattia Michael Quozza E E altrimenti E altrimenti Catti E altra gente Che ci farà compagnia Esatto Io arriverò verso le 4 Se siete ancora in onda Cioè finito il pay per view Arriverò Anche me Anche tu verso la fine Alla fine del pay per view Sì Ok Quindi noi arriveremo verso le 4 Più o meno Perfetto Lunedì Lunedì sera Ve lo pronunciamo Non dovremmo essere in onda Perché dovremmo avere un impegno del milanese Quindi non Non vi possiamo dire cosa Purtroppo Ve lo diremo a cose fatte Più che altro Però Lunedì Non è una cosa che riguarda la radio È una cosa che Una cosa a cui siamo stati invitati E ci fa piacere andare Più che altro Quindi lunedì sera Non dovremmo essere in onda Con il post pay per view Dovremmo essere regolarmente in onda Martedì Per quanto riguarda il post Il post Monday Night Raw Che andrà in onda però alle 23 Perché io prima dovrei essere al cinema Vado a vedere del grande cinema Martedì sera Cioè? Fantozzi Bravo Vado a vedere Fantozzi Bravo perché vado anch'io E la settimana dopo andrò a vedere l'altro Del secondo tragico Fantozzi Visto che Cosa buona e giusta Sì Sono i due migliori Sono quelli che fanno più ridere Quindi Li riguardo sempre molto 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 interagliato Visto i filmati su YouTube L'hanno fatto veramente un bel lavoro Con il restauro A livello A livello qualitativo Delle immagini Quindi Vado l'applicato Perché poi I primi due Io li adoro I primi due di Fantozzi Io li adoro Quindi Siccome sono un comodone Aspetterò le versioni Blu-ray Beh non fai Non fai male Onestamente Però Però Questo vado volentieri A cinema a vederlo Questo qui E niente Martedì sera alle 23 Quindi il post Raw Mercoledì sera Saremo in onda Dalle 20.40 Per seguire in diretta Tutte le partite Perché c'è il tour Infrasettimanale di campionato Ci fai compagnia Fabio Hai da fare? Non lo so Le faremo sapere Ho capito Ah mercoledì c'è l'infrasettimanale C'è l'infrasettimanale Sì questo E l'ho arrivato Mercoledì al cinema Così sono in uscita libera Posso prendere la comoda Praticamente Perché martedì c'è Martedì gioca l'Inter Se non ricordo male C'è Bologna e Inter Poi mercoledì Sono le altre partite C'è Sassuolo e Juventus C'è Milan-Chievo Napoli-Palermo Romandini Zattalanta-Lazio Verona-Fioritina Torino-Gena Forza-Geno e Carpi Queste le partite che ci saranno Sarvi in onda per punte di X-Factor Tu ieri sei Hai dato buca tra l'altro Per X-Factor Chiedo scusa Ma ho la classica cena Di inizio anno Con gli altri Dallo studentato L'abbiamo guardato comunque Sì ho visto Che è scritto italico Ero impegnato a cena Sei precettato Per giovedì prossimo Comunque Sarà fatto E' uscito uno dei tuoi per caso No perché è uscito Massimiliano Quindi niente No però mi piaceva Sì E' uscito uno di quelli Preferito dal Pupazzo Quindi non c'eri tu Ma Uno del Pupazzo E' uscito E' uscito praticamente Vabbè No niente Questi gli appuntamenti E poi come solito Caffè tra domenica E lunedì prossimo Quando parleremo Del pay per view Ovviamente del pay per view Parleremo anche Martedì sera Nel post Raw Però Non entreremo in dettaglio Peccato perché Cominceremo alle 11 Martedì Quindi avremo un'ora e mezza Solamente per parlare Sia di Raw Che del pay per view Quindi rientreremo Praticamente nella discussione Su Elina Cell Magari più in dettaglio Nell'edizione Del Vressing Cafe E poi ovviamente Avrò lo Stanford Report In uscita il giovedì Con praticamente tutti i voti Che darò come al solito Al pay per view Io ringrazio Giovanni Pantalone Che è stato con noi In precedenza Grazie a Fabio De Nardi Grazie a tutti Ci sentiamo in settimana Con gli appuntamenti Come possibile Grazie ad Andrea Negro Grazie a tutti Buona settimana E grazie a voi che ci avete ascoltato Fino a questo momento Wrestling Cafe Come detto torna tra domenica e lunedì prossimo Ci sentiamo in settimana in radio Con i vari appuntamenti Martedì sera su tutto il wrestling Con il post Monday Night Raw Grazie per averci ascoltato Buona Elina Cell A tutti Vi ricordiamo che il pay per view È visibile sul WDW Network In Italia Al costo di 9,99$ al mese Più IVA Se avete già l'abbonamento E dovete praticamente pagare L'abbonamento per quanto riguarda il mese Se invece non vi siete mai iscritti Al WDW Network Il primo mese come sempre è in omaggio Mentre per quanto riguarda la visione televisiva L'evento sarà trasmesso da Sky Canale 256 in HD 262 Definizione standard Al costo di 15€ Col commento in italiano e in inglese Sul network invece in inglese Mi raccomando guardate il pay per view Sul network Ma senza commento Perché ascoltate noi Ok vabbè Vabbè posso vederlo anche in televisione Ascoltare noi Ascoltare Anzi Ascoltare voi Sì ho detto sul network Ma anche Sky Vabbè Il pay per view sul network Potete Il video è disponibile on demand Appena dopo la fine Naturalmente Naturalmente Che è anche più comodo Se magari domenica notte Volete dormire Che contando La costruzione del pay per view Probabilmente non è una brutta idea Però magari Magari Il pay per view è anche divertente Lo speriamo quantomeno Ne parleremo comunque la prossima settimana Grazie per averci ascoltato Wrestling Cafe è tornata domenica Lunedì prossimo Buona settimana Rimanete con tuttoresse.com Alla prossima Ciao Ciao